Il punto più bello della giornata, l'ora dello snack! Mmm, sarà buonissimo! E ci metto sopra un uovo! Ora sì che è un sandwich! Ehi, dove pensi di andare? Oh no! Ok, se la metti così... Wow! Ehi, calmati! Questo è mio! Ti faccio un altro uovo. Ma prima ho bisogno di un po' d'aglio. Disegna un quadrato con l'aglio nella padella. Così. Poi versaci l'uovo. L'aglio fa da barriera. Così avrai un uovo quadrato. Provalo! Non scivola! E ora finalmente posso mangiarlo! Com'è? Buonissimo! Te ne sei guadagnato un morso! Delizioso! Come farò a finire tutto? Ok, credo di aver capito. Stupida matita, dai! Ma chi prendo in giro? Non so che cosa sto facendo. Almeno il caffè è forte, no? Ok, dai, concentrati! Oh, credo di saperla questa! Ce la sto facendo, dai! La risposta è la B. Sì! Altro caffè! Adesso va meglio. Mmm... Oh! Vedo tutto sfocato, accidenti! Mmm... Non ho tempo di dormire, no! Tieni gli occhi aperti! Oh, no! I compiti sono fradici! È un disastro! Sono così goffo, accidenti! Ma cos'è successo qui? Oh, poverino! Vorrei poterti aiutare! Ma forse... Posso! Dammi quella tazza, su! Questo coperchio ci sta perfetto! Così eviterai ulteriori incidenti, vedi? Dov'ero? No! Ehi, non si è versato niente! Lily, è davvero fortissimo! E si mantiene caldo, wow! Se solo potesse risolvere anche questo problema! Mmm... Che buono, Dori! Questi caschetti sono davvero un capolavoro! Ehi, senti anche tu questo odore? No! Guarda questi caschetti! Diamoci dentro! Wow, wow! Sono così buoni! Ancora uno? Questo è mio! Oh, no! È mio! Dammelo! Stanno litigando per me! Il ragazzo è divertente! Che? I miei cupcake! Ehi, datelo a me! Come usate il mio cupcake! Sei contento adesso? Nessuno può averlo! Ma perché la chimica è così difficile? Forse se mangio ci capirò qualcosa in più! Il cioccolato è proprio ciò che ci vuole! Ed è la giusta quantità, direi! Mamma, è solo un po' di zucchero! Non finché non avrai finito i compiti! Lizzie, devi concentrarti! Intendi su questa ciotola di dolcetti? Sul serio? Ma tutte le mamme sono così severe! Mi serve solo un po' più di furbizia! Vedi questa grande spazzola? Beh, dentro è vuota! Quindi basta versarci dentro i dolcetti! Ma cosa stai combinando? Ahm! Spero non siano dei dolci! Presto tutti dentro! E fa finta di studiare! Qui non c'è niente! Questi sono i tuoi compiti? Dolci? Non impari mai, vero? Ma... Sono più intelligente di quello che pensi! Nascondiglio segreto in arrivo! Venite da mamma! Ma come sono buoni! Se la mamma non lo sa, male non le farà! Pazzesca! Dovresti organizzare feste per lavoro! Dici? Oh no! Tutta rovesciata! Ora diventa tutto appiccicoso! Non ti preoccupare, pulisco io! Aspetta! So benissimo cosa fare! Questa anguria ci svolterà la giornata! Hai un'anguria a portata di mano? Mettila in piedi! E svuotala con attenzione! Poi inserisci un rubinetto! Sì! Sul fondo! E poi mettici la tua bevanda preferita! Ci entrano due litri! E vai! Abbiamo fatto! Ragazzi, sembrate assetati! Riempiamo questi bicchieri! Prima io! A che servono le bottiglie se hai la frutta? Pratico, eppure bello! Ce n'è per tutti! Alla nostra! Stamattina sono un po' gonfia, eh! L'alito bello fresco dovrebbe svegliarmi subito! Ma non è rimasto niente! Vieni fuori! Spingilo dal basso! Eccoci! Spingilo dal basso! Spingilo dal basso! Spingilo dal basso! Oh no! Non c'è più niente! Credo che mi rimanga soltanto una cosa da fare! Oh, dove è la carta igienica? Questa non basterà di certo! Oggi non mi va bene niente! Avrei dovuto fare la spesa ieri! Bah, ma che schio! Sotto la doccia sarò salva! Almeno credo... Ho dimenticato di mettere gli asciugamani puliti! La tenda della doccia assorbirà all'acqua? Beh, c'è soltanto un modo per saperlo! Ok, speriamo che funzioni! Spero che nessuno mi veda! Non so, non ci potevo credere! Ehi, guarda queste cornici! Sono troppo fighe! Non so, sì, vanno bene! Aspetta, cosa è stato? Ah, che accidente! Oh, siamo in una sfida! Posso andare io per prima? Ok, la guerra dei pollici deciderà chi va per prima! Ah, presa! Vinco io! Il rosso è il migliore, vado! Oh mio! Ma che cavolo! Ah, è un teschio inquietante e rosso! Aspetta, fammi avvicinare! Forse dovrei annusare! Oh, ma certo! È gommoso! Io adoro la roba gommosa! I teschi non fanno schifo quando sono gommosi! Voglio dargli un morso, vado! Mmm, sa di ciliegia! Non so, è ancora inquietante! Vediamo cosa c'è sotto il mio! Ma dai, un bus a tre piani! Ma che figo! Apriamolo e vediamo cosa c'è dentro! Uh, un dolciume gommoso! Ed è viola! Scommetto che è buonissimo! Voglio assaggiare! Mmm, sì, è ottimo! Wow, ma guarda! Ho una bacchetta e un mantello! Uh, ma che figo! Ne voglio anch'io! Eh no, per te niente! Proprio così, vacci piano! Io mangio i miei dolci! Che buoni! Ottimi! E super soddisfacenti! Ok, devo rimetterla alla velocità normale! Haha, venite qui, dolciumi! Aspetta, cosa? Come hai fatto a mangiarli così in fretta? Sì, fa niente! Ho ancora il mio teschio! Voglio iniziare io! Cosa? Ancora? Voglio andare io per prima! Oh, ok, vai tu! Grazie, lo farò! Cosa? Ma non c'è niente! Eh? Cosa succede? Ah! Wow! È un arco con le frecce! Ehi, credo che le frecce siano dei lecca-lecca! Scommetto che potrò farci molto! Ho sempre voluto fare l'arciere! Wow, ma che figo! E come vola! Questo libro è fantastico! Aia! Cos'è stato? Oh, oh! Salve ragazze! Wow! Quante siete! Accidenti! Hai visto cosa ha fatto quella freccia? Sì, troppo forte! Di cosa sarà fatta? Oh, wow! Che buon odore! Voglio assaggiare! Sì, è buonissimo! E tu cos'hai? Beh, sembra una specie di dolciume! Sembra della vernice spray! Voglio assaggiare! Mmm, che buono! Ehi, guarda! C'è un bottone d'accensione! Voglio premerlo! Io ci provo! Che cavolo, dove è andata? Sono rimasta qui tutta sola! Aiuto! La mia amica è sparita! Dove sarà andata? Sono qui tutta sola! Ehi, amica! Sono tornata! E mi sono divertita! Beh, io sono stata molto in pensiero! Ma non dovevi! Ho ballato e mi sono divertita! Fermati! Ho dei dadi! Tiriamoli per vedere chi va per prima! Quattro batte due! Vinco io! Cosa una scarpa? A cosa servirà? Forse è commessibile! Fammela odorare! Eh no! Non mi starà nemmeno! Vuoi questa scarpa? Ma che sfida! Cos'è stato? Ok, sarò coraggiosa e controllerò! Ehi! La scarpa si è trasformata! Ed è un dolciume! Che bello! Scommetto che sarà delizioso! Ehi! Sì! E' stato di fragola! E posso immergerla in questa polverina! Lo immergerò poco poco! Chissà che sapore avrà! Gnam! Molto meglio! Spero di avere anch'io un lecca lecca! Questo cos'è? Una medusa? Oh! Ma è gommosa! Voglio assaggiarla! Mi piace il colore! E che buon odore! Ok, l'assaggio! Oh! È molto buona! Molto più che buona! Accidenti! Sono nell'oceano! Guarda quante meduse! Che carine! Oh! Stanno sparendo! Ma cosa sta facendo? Beh, fa niente! Io ho tutto ciò che mi serve! Posso andare io per prima! Ok, vai! Oh! Io ho un alligatore! Mi piace! E guarda che denti! Sì, è figo! Aspetta! Eh no! Non osare! Oh! Oso e come! Fermati! Non mangiarmi! Oh! Oh! Mi sto arrabbiando! Wow! Ok! Scusami! Proviamo questi dolciumi! Ottimo lavoro! Bella presa! Voglio assaggiare! Sì, ho già capito che sarà bello gommoso! Questo dolciume è così buono! Apri il tuo! Aspetta! Una teiera e delle foglie di tè! Insomma, sì, va bene! Ma non è un dolciume! Oh! Ho cambiato idea! Che buon odore! Voglio farmi un bel tè! Aggiungerò dell'acqua e metterò le foglie nel filtro! E ora devo solo aspettare! Sarà buonissimo! Ok, aspettare il tè è noioso! Non posso credere che l'abbia lasciata! Sarà pronto! Oh! Forse lo è! Ok, la tazza è pronta! Wow! Guarda che colore! È così viola e bello! Ah, non ha lo stesso odore delle foglie secche, però! Oh, fa schifo! È orribile! Ah, l'hai versato dappertutto! Oh, ma stai zitta! Ingozzati e basta! Non riuscirai a non battere le ciglia! Ah, hai vinto! Adesso ho gli occhi secchi, ma vado! Bene, è un dolciume! Sono dei mini water! Mi sembrano buoni! E sono così viola! Fammi assaggiare! Oh wow! Finora sono i miei preferiti! E sono molto meglio del tè! Addio scatola, non mi servi più! Adesso li voglio scaldare un po'! Ehi, cosa stai facendo? Beh, io nel frattempo controllo il mio! Wow, ma guarda quanto è figo! È un'altra vernice spray, ma con la cannuccia! Oh, è il beccuccio! E poi c'è un lecca-lecca! Oh, è molto astro! Accidenti, come hai fatto? Figo, eh? Ne ho fatto uno gigante! Sì, e sarà fantastico! Oh, aspetta! Fermati! Che c'è? Che cavolo è quello? Ehi, c'è cascata in pieno! Ci spruzzerò un po' di vernice! Mai le allucinazioni! Qui non c'è niente! Colpa mia, scusa! Ok, fammi tornare al mio snack! Oh mio Dio! Perché è così aspro? Ci ho aggiunto io la sprezza! Oh, come sei furba! Ma dammene ancora! Sì, adesso va molto meglio! Cosa? Sul serio? Immagino che non vorrei più ridarmela! C'è qui! Non vogliamo mica che ci scoprano! Ok, abbiamo il pane! E ora la marmellata di fragole! Wow, sei davvero geniale! Ha un aspetto delizioso! È davvero buono! Oh sì! Guarda che cos'ho! Marmellata nel tubetto del dentifricio! Geniale! E ora mangiamo! Cos'è stato? Thomas? Tina? Oh no! È la mamma! Ci ha trovati! Meglio vedere che stanno facendo! Nasconditi, arriva! Ero sicura di averli sentiti qui dentro! Sta succedendo qualcosa di strano! Ma forse mi sbagliavo! Metto un po' di crema, già che ci sono! Cos'è questa roba? Un attimo! È marmellata! Thomas? Tina? Saranno nei guai non appena li becco! Ok, sembra se ne sia andata! Ora possiamo mangiare! Finalmente! Buonissimo! Ce lo meritiamo proprio! Pronta? Vai prima tu! Ma queste sono caramelle quadrate all'anguria! Che bello! Forse sì! Sì, sicuro funziona! Cadono! Ma non si gioca col cibo! Ok, tocca a me! Sembrano buonissime! Gomme all'anguria! Non vedo l'ora di assaggiarle! Buone! Ma è un tabellone questo! Oh, io ho zero! Confortante, devo dire! Oh, sì! Io ho uno! Quindi è così che puoi giocare! Pensi di potermi battere? Iniziamo! Devo mangiarle tutte! Pivella! Sono una professionista in questa roba! Oh, sì! Davvero! Fatto! Venti! Uh! Venti sì! Pari! Questi saranno buonissimi! Leggeri e morbidi! Forse dovrei! Fermati qui! Oh, vado prima io! Vabbè, vai! C'è la fine di anguria! Le mie preferite! Che carina! Proprio come piace a me! È perfetta! Sono un po' invidiosa! Speriamo sia qualcosa di buono! Lecca lecca! Che delusione! Vabbè! Dai! Per niente male! Anzi! Ma guardati! Lecca lecca sono proprio noiosi! Mmm! Gelatine! Questi orecchini mi hanno fatto venire un'idea! Che succede lì? Ehm, scusa? Questi lecca lecca ti sembrano ancora noioti? Non è giusto! Lei è bellissima! Non possiamo essere tutte belle! Oh no! Si sono appiccicati ai capelli! Beh, almeno le mie gelatine! Stai bene? Sono tutta appiccicata! Non ne esco! Non riesco a toglierli! Oh! Oh cavolo! Mi sa che sia fatta male! Vuoi una mano? Sono una pessima amica! Fatti aiutare! Due porzioni sono l'ideale! Mmm! Delizioso! Con i biscotti sarà ancora meglio! Oh sì! Sbricioliamoli! Cioccolato e fragole vanno bene insieme! C'è solo un modo per scoprirlo! Oh! Lasciamene un po' per favore! Oh! Quanto sei avida! C'è del latte qui? Bene! Un attimo! Ho l'idea migliore del mondo! Torno subito! Vai di mattarello! Dobbiamo ridurli in briciole! Ora prendiamo le forbici e tagliamo un'estremità! Ecco tutti i biscotti sbriciolati! Dovrebbero essere abbastanza! Ora ci divertiamo! Mettiamo in ogni pacchetto del latte! E dei bastoncini da gelato! Oh sì! In tutti! Amo il latte! Abracadabra! Alakazam! Wow! Ora sono congelati! E' finito il gelato! Per fortuna io ne ho tanto altro! I miei gelati latte e biscotti! Buonissimi! Si è squagliato! Wow! Sei curiosa di assaggiarli? Aspetta per favore! E so esattamente cosa fare! Mi sta chiamando Kevin! Quale scelgo? Beh, Kevin immagino! Ehi! Come va? Aspetta un attimo, ok? Oh! La mia caramella preferita! Ma che fortuna! Limone e fragola l'adoro! Ma quello era mio! Ora non lo voglio più! Beh, ora mi dispiace! Vedi questa palla di plastica? Aprila! E mettici le tue caramelle preferite! Ora metti un goccio di colla a caldo! E attaccaci un bastoncino di legno! Poi incartala con la carta che preferisci! Ehi, Lizzie! Vorresti il tuo lecca-lecca? Che ne dici di due giganti? Sembrano maracas, non è vero? Ora sì che hai un motivo per ballare! Ed è tutto tuo! Ora non puoi mica essere arrabbiata! È il lecca-lecca più grande che ho abbia mai visto! Aprilo! Oh! Ma sta già tornando? Se vede questo casino mi ammazza! Questo significa solo una cosa! Che è ora di pulire tutto! E per prima cosa, devo lavare il pavimento! Ehi, perché a me? Non può essere! Niente, è peggio dei calzini zuppi! Vabbè, continuiamo! Che sensazione terribile! Ce l'ho fatta! Appena in tempo! E adesso la parte divertente! Questi pavimenti hanno bisogno di una bella pulita! Ma che fatica! Wow! E io che pensavo di aver finito! Sarà meglio che mi sbrighi! Sono in sella e pronta per partire! Ma che noia! Possiamo accelerare un po' le cose? Accidenti! Meno male che ho finito! Aspetta un attimo! Ma come ho fatto a non vederla? Ma qui non si finisce più! Accidenti! Che buon odore, vero? E scommetto che sono anche buoni! Ups! Il ketchup non macchia, vero? Grazie! E questa maglietta è nuovissima! Mi sa che per la prossima sarà meglio mettersi un bavagliere! Certo che ho detto sì! Guarda che ti ho preso! Vuoi? Non ti dispiace se inizio, vero? Oh! Quanta salsa! Oh sì! Ah? Non dovrebbero esserci i gamberetti! Ho preso i noodles ai gamberetti, no? Ah! So cosa fare! Attivazione vista raggi X! Bingo! Stanno sul fondo! Ci sono quasi! Ciao! Ah! Che stai facendo? Non devi scavare, sai? Guarda! Se lo apri ai lati, diventa un piatto! Wow! Pazzesco! Ora l'ho trovato! Eccoci qua! Oh, quanto ti ho cercato! Grazie! Grazie! Figurati! E ora voglio assaggiare! Non importa di che colore sia il cibo, l'importante è che sia gustoso! Qual è il tuo piatto preferito? Faccelo sapere nei commenti qui sotto! Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per vedere altri video divertenti come questo! Ehi! Ma non può essere già finita! Quando si dice raschiare il fondo! E non è rimasto proprio niente! Accidenti a me ha la mia ossessione per la cioccolata! Mi piace troppo! Ma è uno scherzo? Devo averla finita per sbaglio! Il mio trucchetto dovrebbe salvare la situazione! Per prima cosa, versa del latte nel barattolo! Poi gira con un cucchiaio! Ciao ciao, latte al cioccolato! E via negli stampini! Una volta pieni, mettici i bastoncini! E poi mettili nel congelatore! Vediamo come sono venuti! Buonissimi! Mi manca ancora un passaggio! Esatto! Non possiamo non aggiungere i confettini! Guarda come sono colorati! Tutto per te, Sofia! E pensare che stavo per buttare via quel barattolo! E brava, Emma! Spero a tutti piacciono le patatine! Dovrebbero essere abbastanza! Il primo invitato! Pronti a fare festa? Ma quante persone sono? Non abbuffatevi subito, ragazzi! Oh no! Non ci credo! Non è rimasta neanche una briciola! Resti di una tavola imbandita! Sembrano affamati! No! Ehi! Ragazzi, ma avete pranzato! Wow! Per poco non mi facevano secca! Che posso dargli da mangiare? Vediamo un po' lì! Oh! Queste me le ero perse! Facciamo qualcosa di più elaborato! Waffle alle caramelle! Sembrano carini, vero? Metti un bastoncino in ogni parte! Così sono comodi da tenere in mano! Qualche minuto e... Waffle alle caramelle! Wow! Ok, ragazzi! Non mi mangiate! Avete ancora fame? Sembrano buoni, eh? Direi che hanno approvato! E vai! Ce n'è anche uno per me! Gnam! Ecco la prima challenge! Non dovremmo avere qualcosa da mangiare davanti! Ma che challenge è questa? Forse non è partita! Aspetta! Figo! Ci divertiremo sicuro! Wow! Forse... Dovrei iniziare io! Cosa? Ok, va bene! E vai! Grazie! No, era un giro di prova! Fammi riprovare! Fai con calma! Ah, frustrante! Che bello continuare a leggere! Per una volta fa che sia qualcosa di buono! Vai tu! Eh? Cosa hai finito? Ok! Oh sì! Pazzesco! Wow! Ben fatto! Ma è bellissima! E immagino buonissima! Posso darti una mano? Ehi amica! Scusa! Sono scivolata e sono finita sulla torta! Sì, certo! Ne vuoi altra? Il tè caldo mi andrebbe, sì! E quello allo zenzero è il migliore! E via! Adesso come faccio a tirare fuori la bustina di tè? Ai! Scotta! Devo riuscire a toglierla! Ma che strazio! Ok, passiamo ad altro! Toast con la marmellata in arrivo! Ma prima dobbiamo metterci il burro! Che a volte può essere alquanto impegnativo! Estenditi! Questo pane è troppo morbido! No, non strapparti! Questa colazione si sta trasformando in un disastro! Beh, tanto vale mettere la marmellata! Mica sarà così difficile, giusto? Prima ne prendiamo un po'! Ah, sembra buonissima! E adesso è pronto! Ma è difficile da prendere! E adesso mordiamo! Oh no! Spiazzerò tutti quanti con questa cena deliziosa! Basta usare ingredienti freschi, giusto? Oh, credo che il pollo sia pronto! Ma che delizia! Oh beh, forse è un po' troppo cotto! Avrà ancora un buon sapore, vero? Posso rimediare, giusto? Accidenti, ma perché il timer non è scattato? Mi hai fregato, stupidino! Mi serve una soluzione al volo! Ci sono, che genio! Pronto, e vorrei fare un ordine, salve! Grazie! Che velocità, grazie ancora! Ha un profumo migliore del mio! Non è bellissimo! E sul piatto! Sì, sembra proprio opera mia! Oh, l'ospite! Che buon odore! È per me! L'ho fatto io! È caldo, stai attenta! È un po' incasinato, vero? Direi di sì! Per me basta così, grazie! Ma era davvero buono! Ti faccio vedere una cosa, ok? Sei pronto? Prendi una piadina e tagliala a metà, proprio così! Poi su ogni quarto aggiungi un ingrediente Potrebbe essere un condimento oppure una salsa Vedi? Piega ogni quarto in questo modo uno per volta E l'ultimo Perfetto! Così non cascherà niente! Tieni! Buono, vero? Non li farai mai più In nessun altro modo Spero a tutti piacciano le patatine Dovrebbero essere abbastanza Il primo invitato! Pronti a fare festa? Ma quante persone sono? Non abbuffatevi subito, ragazzi! Oh no! Hanno svuotato il tavolo! Non ci credo! Non è rimasta neanche una briciola Resti di una tavola imbandita Sembrano affamati No! Ehi! Ragazzi, ma avete pranzato? Wow! Per poco non mi facevano secca Che posso dargli da mangiare? Vediamo un po' lì Oh! Queste me le ero perse! Facciamo qualcosa di più elaborato Waffle alle caramelle Sembrano carini, vero? Metti un bastoncino in ogni parte Così sono comodi da tenere in mano Qualche minuto e... Waffle alle caramelle! Wow! Ok, ragazzi Non mi mangiate Avete ancora fame? Sembrano buoni, eh? Direi che hanno approvato E vai! Ce n'è anche uno per me Gnam! Confetti Emma adorerà questa torta di compleanno Ah, penso sia la migliore che io abbia mai fatto Oh, ehi! Guarda che torta! Devo assaggiarla Sì, è proprio buona Tu vieni con me, torta Ah! Thomas! Fermo lì! Oh no! Oh, la mia torta! Mi dispiace Sistemerò tutto Guarda! È come nuova! Non è una torta È un ammasso in forme No, non piangere Guarda, c'è persino la candelina Era la torta per Emma E adesso è rovinata Accidenti Non volevo rovinarle la torta Beh, ma ci sono ancora degli ingredienti Forse so come rimediare Sciolgo il cioccolato con il phon Oh, sembra buono Ma non posso mangiarlo Non ancora Ok, fatto Aggiungo questi mini marshmallow Li metterò nel cioccolato Li mescolo finché non sono tutti ricoperti di cioccolato Assomigliano ai cereali immersi nel cioccolato al latte Metto tutto in una teglia Perfetto! Ci sta tutto! E aggiungo dei confetti per un tocco di colore Bene! Sono abbastanza bravo! Dopo che si è raffreddata si può mangiare Barrette al cioccolato e marshmallow E la candela è il tocco finale Wow! Ma come hai fatto? Mi dispiaceva per la torta Quindi ho fatto queste per la festa Che spettacolo! Dai, andiamo alla festa! Adesso aggiungerò altri confetti Emma adorerà questa torta di compleanno Ah, penso sia la migliore che io abbia mai fatto Oh, ehi! Guarda che torta! Devo assaggiarla Sì, è proprio buona Tu vieni con me, torta Ah! Thomas! Fermo lì! Oh no! Oh, la mia torta! Mi dispiace, sistemerò tutto Guarda! È come nuova! Non è una torta È un ammasso in forme! No, non piangere! Guarda! C'è persino la candelina! Era la torta per Emma E adesso è rovinata! Accidenti! Non volevo rovinarle la torta Beh, ma ci sono ancora degli ingredienti! Forse so come rimediare Sciolgo il cioccolato con il fond Uh, sembra buono! Ma non posso mangiarlo, non ancora! Ok, fatto! Aggiungo questi mini marshmallow Li metterò nel cioccolato Li mescolo finché non sono tutti ricoperti di cioccolato Assomigliano ai cereali immersi nel cioccolato al latte Metto tutto in una teglia Perfetto! Ci sta tutto! E aggiungo dei confetti per un tocco di colore Bene! Sono abbastanza bravo! Dopo che si è raffreddata Si può mangiare Barrette al cioccolato e marshmallow E la candela e il tocco finale Wow! Ma come hai fatto? Mi dispiaceva per la torta Quindi ho fatto queste per la festa Che spettacolo! Dai, andiamo alla festa! Che figo! Uh, questa fetta sembra buonissima! Oh sì, deliziosa! Consegna a domicilio! Ma non aspettavo nessuno! Ah, il mio ragazzo con dei fiori! E io ho appena mangiato le cipolle! Ci sono mentine! Con queste risolverò! Così la puzza andrà via! Continuo a masticare Farite, cattivi odori! E questo chi è? Questa bocca non è abbastanza grande per entrambe Scommettiamo? Ci sto! È tutto quello che sai fare? Ciao! Cos'ha che non va? Vincerò io! Puzza! Sparisci! No, per favore! Ha funzionato! È fresco come una rosa qui! Ok, molto meglio! Pazzesca! Dovresti organizzare feste per lavoro! Dici? Oh, no! Tutta rovesciata! Oh, ora diventa tutto appiccicoso! Non ti preoccupare, pulisco io! Aspetta! So benissimo cosa fare! Questa anguria ci svolterà la giornata! Hai un'anguria a portata di mano? Mettila in piedi! E svuotala con attenzione! Poi inserisci un rubinetto! Sì, sul fondo! E poi mettici la tua bevanda preferita! Ci entrano due litri! E vai! Abbiamo fatto! Ragazzi, sembrate assetati! Riempiamo questi bicchieri! Prima io! A che servono le bottiglie se hai la frutta? Pratico, eppure bello! Ce n'è per tutti! Alla nostra! Dico, non è così bello! Scherzi! È il film più bello del mondo! Del mondo addirittura! Ma dai! Liam! Non immaginavo ti sentissi così! Ho voluto farlo per un sacco di tempo! È il destino! Eravamo destinati! Ups! Era il mio stomaco! Devo mangiare qualcosa! Aspetta! Credo di avere una barretta con me! Oh sì! La mangio dopo! Scusa! Anche se... Ho un'idea migliore! Ho bisogno di uno spuntino! Capito! A chi non piacciono le patatine? In arrivo! Aia! Cos'era? Non ne ho idea! Sul serio! Devo lavorare sul mio obiettivo! Questa è un'idea migliore! Molto meglio dell'aeroplanino! Pronti per il decollo! Guarda come va! Grandioso! Mi servono più lezioni di volo, credo! Pensa, pensa! Deve pur esserci un modo! Wow! Ottima idea! La userò! Devo solo attaccarci le barrette! Sono un genio! Ottima idea! Ok! Arriva veloce! Brum brum! Guarda quanti dolci! Questa è perfetta! Sara, questa è per te! Wow! Grazie! Ciao ciao! Sara! Ma che fai? Non ci credo! Il mare è pieno di pesci! Mettilo qui! Esatto, così! Niente! Anche peggio se possibile! Oddio! Sono stanca! Sì! Questo dobbiamo troppo farlo! Oh! C'è già la cloche! Wow! Che bel aspetto! Quest'anguria! Oh! Si è addormentata! Ehi! Svegliati! Non è l'ora del pisolino! Dai! Ma devo farlo da sola! Mi è venuta un'idea! Ehi! Oddio! Ma che succede? Sei incinta! No! Non vedo l'ora che nasca! Aspetta! Calmati! È solo uno scherzo! Non sono incinta! O meglio! Sono incinta ma... Di un'anguria! Wow! Non male come bambino! So cosa dobbiamo farci! Dammi! Ehi! Ma che fai? Abbiamo solo questo! Non ti preoccupare! So cosa faccio! Ho anche una fascia! Ah! Spronta per tagliarlo in mille pezzi! Oh mio Dio! Sei fuori controllo! Stai attenta! E tac! E tac! Ah! Basta! Basta! Fermati! Certo! Non ti sei nemmeno guardata il video! Ok! Ecco l'anguria! Ok! Ok! Tolgono la buccia col coltello! Oh! Ne lasciano un pezzo al centro! E ora tolgono delle fette di anguria! Non capisco bene dove vogliono arrivare! Oh! Ora lo tagliano a fettine! Ho capito! Saranno carinissimi! Infatti! Guarda che bel piatto di anguria! Bellissimo! Wow! Non ci credo! Già lo hai fatto! Pazzesco! Esatto! Vedi? Ora hai capito perché ti ho fermata! Fammi assaggiare! Wow! Questa sì che è una buona anguria! Dolce e succosa! Chissà che succede nel prossimo video! Oh! Guarda il caramello! Sembra buonissimo! E la cioccolata! Ma che fanno? Lo mettono nell'acqua col ghiaccio! Ah sì! Così il caramello rimane morbido sotto alla cioccolata! Bel trucchetto eh! Cavolo! Ma abbiamo finito i popcorn! Non ci sono più! Uffa! Ma io ho ancora fame! Aspetta certo il video! Wow! La magia ci ha ascoltate! E ci ha già consegnato tutto! Ok! Vediamo un po' che abbiamo qui sotto! Uh! Banane e mirtilli! Oh sì! Mica male eh! Io assaggio! Wow! Ora intingo anche questo! Oh sì! Saranno buonissimi! Apriamo anche questa! C'è l'acqua ghiacciata! Immergiamoli! Direi che sono pronti! Ora che si sono freddati! Assaggiamo finalmente! Oddio! Addirittura più buono di quanto pensassi! Vero! La mia banana è buonissima! Aspetta! Credo di avere un'idea! E se? Provassi con un cetriolino? Oh sì! Sono un genio! Ora lo intingo! Oh sì! Proprio così! E ora nel ghiaccio! Assaggiamo! Uh! Delizioso! Mamma mia! Tieni assaggia! Ma no! Allontanati da me! Che schifo! Comunque io ho la mia cipolla! Che mi serve il cetriolino! Intingiamo! Tieniti il tuo cetriolino! Ah! Guarda qua! Bellissima! E ora diamo un bel morso! Ma non è cattiva? Anche è buonissima! La adoro! A me basta il mio cetriolino! Grazie! Devo dire che è andata bene! Sì! E a ciascuno è il suo! Non vedo l'ora! Non guardare! Si inizia! Ok! Non è malissimo! Che odorino! Non vedo l'ora di assaggiare! Ma è delizioso! Che sete! Posso averne un po'? Cosa? Certo! Oh! Bevanda gastata all'anguria! Wow! Alla nostra! Che stai facendo? Un po' croccante, ma buono! Ops! Ecco perché non possiamo andare nei ristoranti di livello! Scusa! Oh! Ma mi ero scordata! Wow! Guarda qua! Che figata! Stai bene? Ah! Dammene una, ti prego! Vuoi una pallina? Pallina! Devo prenderla! Ok, va bene! Tanto ne ho tantissime! Il paradiso! Guarda, l'ho presa! Di nuovo! Tienila tu! E vai, cibo gratis! Dopo dobbiamo farci una bella chiacchierata, eh? Ehi! E adesso? Non ci hanno dato niente! Già, non capisco! Non c'è niente qui! Aspetta! Forse so io che cosa fare! Wow! Ma guarda che supereroe! Grazie! Wow! Porto sempre con me questo completo, non si sa mai! E adesso caccia il tesoro! Ma su quella mappa c'è tutto il mondo! Ci aiuterà! Eureka! Adesso so dove cercare! Ho qui il mio lazo! Sei pronta a stupirti? Un bel giro e via! Lanciato! Preso! Aiutami a tirare! Oh! Più forte! Forza! E preso! Oh, che faticaccia però! Adesso apriamolo e vediamo che c'è dentro! Ma scusa, io? Resto qui a mani vuote! Ah, va bene, ecco! Contenta? Ma secondo te... Si comincia! Wow, guarda, un lecca-lecca gommoso al cocomero! Sul serio, capitano tutti a te le fortune, guarda che buono! L'hai detto? L'assaggio! Oh, non ci si crede, è buonissimo! Speriamo che vada bene anche a me! Oh, altre fettine di cocomero! Beh, bisogna accontentarsi, nel tuo caso almeno! Avrei voluto qualcosa di più fantasioso! Ehi, forse posso dargli un tocco in più! Allora, cocomero, coltello e ciotola, ho tutto! Metto nella ciotola i pezzi di cocomero e li schiaccio ben bene col cucchiaio! Ci siamo! Adesso posso versare tutto dentro questi stampi per ghiaccioli! Oltre al succo, metto anche un po' di polpa e poi inserisco i bastoncini per i ghiaccioli! Ah, ho capito che cosa ti è venuto in mente! Mica male! Fantastico, adesso dovrebbero essere pronti! Ecco qui il mio ghiacciolo al cocomero! Wow, sembra davvero appetitoso! Eh, va bene, prendine uno! Ecco a te, visto quanto sono generosa? Oh, che bella vista! È il giorno perfetto per un'escursione! Sai, non è poi così male! Fermiamoci! Eh, Betty, dov'è la tua borsa? Oh oh, torno subito! Succede ogni volta! Fatto! Ok, immagino che può andare! Tiriamo fuori le cose! Ehi, Betty, mi aiuti? Scusa, stavo ammirando il panorama! Dovremmo cominciare a preparare il cibo! Io ho la carbonella e io i miei occhiali da sole! Questo sarà fresco e dissetante! Ah, come sono carina! L'illuminazione è perfetta! Betty? Hai il cibo? Oh, giusto! Spero ti piacciono gli hot dog! E poi? Cos'altro hai preso? Basta? Cosa intendi? La grigliata? Oh, a proposito... Non entra nello zaino! Puoi prendere tu questo? Puoi contare su di me? Penso che siamo pronte per andare! Non ci va proprio! Mi serve spazio per i miei trucchi! Aspettami! Ups! Avrei dovuto sapere che sarebbe successo! Ma ho un'idea! Ho solo bisogno di questi! Metterò lo hot dog nello spiedo! Ecco! Ora dobbiamo aspettare che il sole li cuocia! Non ci vorrà molto! Non credo che funzionerà! Aspetta un attimo! Penso di sapere come risolvere il problema! Taglierò l'anguria a metà! Poi toglierò la polpa! Mmm, com'è buona! Ok, ora ho un'anguria vuota! Metterò dentro un foglio di alluminio! Quindi aggiungerò un po' di carbonella! Farò dei fori nell'anguria con degli spiedini! E ne metterò ancora un po'! Devo creare una griglia! Adesso ci metto sopra gli hot dog! E aspetto che si cuociano! Che profumo delizioso! Ecco qui! Wow! È delizioso! È valsa la pena aspettare! Oh, so io cosa possiamo cucinare! Cosa? Aspetta! Eh? Che ne pensi? Ci penserò io al cibo! Pazzesca! Dovresti organizzare feste per lavoro! Dici? Oh no! Tutta rovesciata! Ora diventa tutto appiccicoso! Non ti preoccupare, pulisco io! Aspetta! So benissimo cosa fare! Questa anguria ci svolterà la giornata! Hai un'anguria a portata di mano? Mettila in piedi! E svuotala con attenzione! Poi inserisci un rubinetto! Sì! Sul fondo! E poi mettici la tua bevanda preferita! Ci entrano due litri! E vai! Abbiamo fatto! Ragazzi, sembrate assetati! Riempiamo questi bicchieri! Prima io! A che servono le bottiglie se hai la frutta? Pratico, eppure bello! Ce n'è per tutti! Alla nostra! Oh! Ma sta già tornando? Se vede questo casino mi ammazza! Questo significa solo una cosa! Che è ora di pulire tutto! E per prima cosa, devo lavare il pavimento! Ehi, perché a me? Non può essere! Niente, è peggio dei calzini zuppi! Vabbè, continuiamo! Che sensazione terribile! Ce l'ho fatta! Appena in tempo! E adesso la parte divertente! Questi pavimenti hanno bisogno di una bella pulita! Ma che fatica! Wow! E io che pensavo di aver finito! Sarà meglio che mi sbrighi! Sono in sella e pronta per partire! Ma che noia! Possiamo accelerare un po' le cose? Accidenti! Meno male che ho finito! Aspetta un attimo! Ma come ho fatto a non vederla? Ma qui non si finisce più! Accidenti! Che buon odore, vero? E scommetto che sono anche buoni! Ops! Il ketchup non macchia, vero? Grazie! E questa maglietta è nuovissima! Mi sa che per la prossima sarà meglio mettersi un bavaglio! Wow! Guarda qua! Hanno una bustina di patatine! Ora ci mettono dentro della roba! A pomodori, cipolle fresche, un po' di formaggio... Oh! E' un uovo! Ora lo squattono per bene! Non ci credo! Ma cosa? Lo fanno bollire! E' diventato un rotolo! Ora lo tagliano e poi lo intingono nelle salse! Ok! Dobbiamo assolutamente provarlo! Sto morendo di fame! Oddio! C'è già una clutch pronta per noi! Aspetta! Ma cos'è? Vediamo che c'è dentro! Oh! Una bella moneta! Scommetto che possiamo comprarci tutto quello di cui abbiamo... Ops! Ma no! Hai perso la moneta! Ok! Va bene! Ora che facciamo? Aspetta! Mi è venuta una super idea! Aspettami qui! Io almeno non è arrabbiata! Aspetta! Non ci credo! Un'altra! Ottimo! Il pacchetto di patatine che ci serviva! Ok! Devo trovare dei soldi! Ehm! Non qui! Mmm! Che odorino! Belle salate croccanti! Scusate! Do un attimo un'occhiata qui! Oh! Che buone! Che fame che ho! Ehm! Scusate! Servono più a me che a voi! Oh no! Sta tornando! Nascondi le prove! Ehm! È stato faticoso ma ho trovato le patatine! Oddio! Davvero faticoso! Anzi! Ok! Ma ora siamo pronte giusto? Certo che sì! Aggiungiamo gli ingredienti! Formaggio e cipolla! E i pomodori non li dimentichiamo! E ora rompo l'uovo nel pacchetto con cautela! Divertente! Ora chiudo la busta e gli do una bella agitata! E ora in pentola si cuoce! Oh no! Non è un fornello questo! E ora come facciamo a cuocerlo? Ehi! Possiamo scaldarla con le mani! Così! Ah! Scotta! Veloce! Dammi la pentola! Oh! Ottimo lavoro! Ok! Basta! Ah! Ma mi vanno ancora a fuoco le mani! Oh! Oh! Ok! Ehm! Molto meglio! Guarda! Il nostro snack è pronto! Bellissimo! Tagliamo la fetta e per fortuna non ci serve il coltello! Aggiungiamo un po' di erbette! Che carino che è! Sei pronta per assaggiarlo? Secondo me è delizioso! Oh wow! Buonissimo! Che idea geniale! Tina! Il tè caldo mi andrebbe sì! E quello allo zenzero è il migliore! E via! Adesso come faccio a tirare fuori la bustina di tè? Ai! Scotta! Devo riuscire a toglierla! Ma che strazio! Ok! Passiamo ad altro! Toast con la marmellata in arrivo! Ma prima dobbiamo metterci il burro! Che a volte può essere alquanto impegnativo! E stenditi! Questo pane è troppo morbido! No! Non strapparti! Questa colazione si sta trasformando in un disastro! Beh! Tanto vale mettere la marmellata! Mica sarà così difficile, giusto? Prima ne prendiamo un po'! Sembra buonissima! E adesso è pronto! Ma è difficile da prendere! E adesso mordiamo! Oh no! Pollo è pronto, amici! E ho! Una cena da leccarsi i baffi! Oh! I pomodori! Ho dimenticato di metterli nell'insalata! Ok! Lo faccio subito! È il momento di tagliuzzare! Hmm... Thomas è tornato! Ah ah! Hai preso questi! Fermoli, ragazzino! Prima tagli questi! Io vado in soggiorno! Che fregatura! Ma quanti sono? Ci vorrà un'eternità! Ma non sarà difficile, no? Giusto un taglietto al centro! Forza! Phew! Davvero? Ho fatto solo questi! Quanti mancano? No! Non finirò mai! Ah! Questo coperchio però può servire! Liscio e piatto! Proviamo! Sette pomodori, un coperchio e un solo taglio! Se li tieni bene, riuscirai a tagliarli tutti a metà! Vedi? Taglio perfetto! Un gran risparmio di tempo! Tutto grazie a questo coperchio! Tutto grazie a questo coperchio! Tutti nella ciotola! Ormai ci ho preso gusto! Mi diverto proprio! Ho finito! Mamma, ho finito! Che c'è, tesoro? Che ridere questa serie! Ah, mi ha fregato! Sushi! Ehi, sembra freschissimo! Buon appetito! Le bacchette mi fanno innervosire! Ok, devo tenerle salde! Ehi! Fa attenzione con quelle! Forza! Dai! Ho detto no! Ma mi prendi in giro! Non ho tempo per questo! La forchetta? Ah, è valsa la pena aspettare! Sei pronta? Attenzione! È un carico pesante! Apriamolo! Pensi sia un cucciolo? O forse un apparecchio per il karaoke? Che stai facendo laggiù, Brian? Mi sono distratto! Fammela aprire! Guarda! È uno di quei tagliafrutta giganti! Non ne ho mai visto uno così grande! Wow! Attento! Che stai facendo? Questa stupida scatola sta in mezzo! È un po' come se fossi al volante! Dove andiamo? In cucina? Wow! Non mi ci abituerò mai! Ma questo... No, usalo sull'anguria! Usalo sull'anguria! Sarà davvero epico! Faccio gli onori di casa? No, faccio io! Sarà molto più sicuro così! Ora puoi andare! Premi più forte che puoi! Ah! Che soddisfazione! Possiamo mangiare ora? Questa la prendo io! La parte centrale è mia! Potrei mangiare tutta questa fetta! Chissà cos'altro potrei farci con questo! Fammi pensare! Ma certo! Andiamo ad affettare, baby! Puntare e spingere! Li sta tagliando? No, neanche un segno! Peccato! Aspetta! Prova con questo! Sarà ancora più soddisfacente! Posso? Guarda e impara! Oh, ragazzi! Sta succedendo! Vedi? Fette perfette! Prego! Premi col dito! Che soddisfazione! È un vero antistress! Cereali! Thomas, sei sempre in mezzo! Ehi! Che bicipiti! Sono duri come una roccia! Sto diventando troppo forte! Guarda! Guarda! Ah! Ma cosa sta succedendo? Thomas, basta! Mettimi giù! Mi stai facendo impazzire! Voglio mangiare i cereali in santa pace! Ehi! Dammi il cucchiaio! Sapevo che l'avrei piegato! Ma lo stavo usando! È il peggiore! Dovrei? Sì, dovrei! Prendo un barattolo vuoto e un palloncino! Ce lo metto dentro ma tenendolo legato a uno spago! Ora fisso lo spago al coperchio! Perfetto! È ben fissato! Ora rimetto dentro i cornflakes! Fatto! E rimetto il coperchio! Thomas! Ho bisogno di te! Eccolo che arriva! E azione! Sono qui! Che cosa vuoi? Non riesco a togliere il coperchio! Mi aiuti tu? Va bene! Fammi vedere! Ah! Ma i cereali sono dappertutto! Ha funzionato! Ci sei cascato! Guerra di pollici! Vedrai che ti batto! Ah, visto! Ho vinto io! Oh, guarda! Tanto per cambiare altro cocomero! Già l'hai detto! Vediamo che cosa ho io! No, anche io ho del semplice cocomero! Perché? Abbiamo tutti e due la stessa cosa! Così non è divertente! Beh, immagino ci tocchi mangiarlo! Sai che ti dico? Qui ci vuole un tocco di fantasia! Adesso guarda e impara! Ho tre ciotole! E allora? Che farai con quelle ciotole? Aspetta e vedrai! Resterai a bocca aperta! Prima mi serve questo! Esatto! Salsa di soia! Ti ho già stupito, eh? Beh, adesso ci vuole della farina! Bisogna amalgamare tutto molto molto bene! Così va bene! Ci siamo! E poi mettiamo del pan grattato! Tadam! Visto che roba! Ma mi serve ancora una cosetta! Ecco un mini grill! Perfetto! Metto tutto dentro e chiudo il coperchio! Non capisco che stai tramando! Sembra tutto fatto a caso! Vedrai, è pronto! Guarda che meraviglia! Assaggiamo adesso! Oh, wow! Wow, wow, wow! È incredibilmente buono! Forse è la cosa più buona che ho mai assaggiato! Beh, mi hai convinto! Voglio provarci anch'io! Vediamo un po'! Comincerei da questo pezzo! Ora, che cosa devo fare? Ah, già! Il cappello da chef, anzitutto! Poi devo fare questo! Poi quello! Poi... Così! Wow, che stai combinando? Un disastro! E la mia fetta di coccomero è pronta! E adesso il momento della verità! Nel grill! Devo solo aspettare che finisca di cuocersi! Ok, intanto mi hai ricoperta di farina, però! Oh, meglio dare un'occhiata! No, si è bruciato tutto! Povero piccolo chef! Meno male che te ne ho preparata una in più! Per te! Oh, grazie tante! Sei la migliore! Lo so! La campanella! Spuntino! Mangerò una barretta al cioccolato! Eh già! È così buona! La mangerò tutta! Cos'è questo rumore? Oh, eh... Tina? Che cosa guardi? Thomas, non sei tanto normale! Hai visto il video? Ce l'aveva tutta in faccia! Accidenti! L'ho finita! Uh, ma la barretta di Tina è proprio lì! Tina, posso? Cosa? No! Hai già mangiato la tua! Mi ha appena chiesto se poteva mangiare la mia! Certo che è proprio acida oggi! Ehi, aspetta! Forse se... No, non così! Ma se faccio... Esatto! Funzionerà di sicuro! È ora di fare a pezzi la barretta di Tina! Farò un taglio in questo senso e poi un taglio dritto! E poi questo quadratino! Ecco fatto! Sposto tutti i pezzi e ora li riposiziono! Fatto! Non si accorgerà di nulla! Thomas! Hai rubato la mia cioccolata? La tua barretta è proprio lì! Oh! Beh, mi sembravi sospetto! Aspetta! Perché ci sono tutti questi tagli? Non mi sembra normale! Lo sapevo! Mi hai rubato un pezzo! Devo andare! Ma perché la chimica è così difficile? Forse se mangio ci capirò qualcosa in più! Il cioccolato è proprio ciò che ci vuole! Ed è la giusta quantità, direi! Mamma, è solo un po' di zucchero! Non finché non avrai finito i compiti! Lizzie, devi concentrarti! Intendi su questa ciotola di dolcetti? Sul serio? Ma tutte le mamme sono così severe! Mi serve solo un po' più di furbizia! Vedi questa grande spazzola? Beh, dentro è vuota! Quindi basta versarci dentro i dolcetti! Ma cosa stai combinando? Ahm! Spero non siano dei dolci! Presto tutti dentro! E fa finta di studiare! Qui non c'è niente! Questi sono i tuoi compiti! Dolci? Non impari mai, vero? Ma sono più intelligente di quello che pensi! Nascondiglio segreto in arrivo! Venite da mamma! Ma come sono buoni! Se la mamma non lo sa, male non le farà! Stamattina sono un po' gonfia, eh! L'alito bello fresco dovrebbe svegliarmi subito! Ma non è rimasto niente! Vieni fuori! Spingilo dal basso! Eccoci! Ok! Oh no! Non c'è più niente! Credo che mi rimanga soltanto una cosa da fare! Dov'è la carta igienica? Questa non basterà di certo! Oggi non mi va bene niente! Avrei dovuto fare la spesa ieri! Beh, ma che schio! Sotto la doccia sarò salva! Almeno credo! Ho dimenticato di mettere gli asciugamani puliti? La tenda della doccia assorbirà all'acqua? Beh, c'è soltanto un modo per saperlo! Ok, speriamo che funzioni! Spero che nessuno mi veda! Facciamo una pausa snack! Ci sediamo qui! Un po' di zucchero per tirarci su! Ci sto! Da quando è che non ti lavi le mani? Sono l'erce! Che ci hai fatto? Un dollaro! Che fortuna! Che bravo cucciolone! Che bravo cucciolone! Oh, sono nuovissime! Ora pulite! Che schifo! Che schifo! Sara! No! Oh, scusa! Ne vuoi un pezzo? È un po' squagliato! Non può succedere! Scusa, puoi smetterla! Un attimo! So cosa fare! Se metto la bottiglia qui... E ci faccio rotolare sopra la barretta... I pezzi si rompono! Senza nemmeno toccarli! Va fatto su entrambi i lati! Vediamo se è funzionato! Apriamola un po'! Pezzi perfetti! Non toccarli, eh! Uno a te e uno a me! Strano! Ma ok! È buonissima! Buon appetito! Ehi! Ma non bastere già finita! Quando si dice raschiare il fondo! E non è rimasto proprio niente! Accidenti a me ha la mia ossessione per la cioccolata! Mi piace troppo! Ma è uno scherzo! Devo averla finita per sbaglio! Il mio trucchetto dovrebbe salvare la situazione! Per prima cosa, versa del latte nel barattolo! Poi gira con un cucchiaio! Ciao ciao, latte al cioccolato! E via negli stampini! Una volta pieni, mettici i bastoncini! E poi mettili nel congelatore! Vediamo come sono venuti! Buonissimi! Mi manca ancora un passaggio! Esatto! Non possiamo non aggiungere i confettini! Guarda come sono colorati! Tutto per te, Sofia! E pensare che stavo per buttare via quel barattolo! E brava, Emma! Ok! Facciamo un po' di squat! Che noia! Voglio un dolcetto! Oh! Questa ciambella sembra deliziosa! Mmm! Proprio buonissima! Cos'è questo odore? Sembra un dolce! Sento lo zucchero! Da dove arriva questa ciambella? Sento proprio quell'odore, sì! Ottimo lavoro! Eww! Mi ha quasi beccata! Per fortuna ne ho portate due! Torniamo a noi! Questa è anche più buona dell'altra! Ancora odore di ciambella! E stavolta sento anche masticare! Oddio! Si sta insospettendo di nuovo! Wow! Un'altra ciambella! Ah! Grazie, dei delle ciambelle! Che allenamento tosto! Mi mancano le mie ciambelle! Anche tu hai fame? Forse c'è qualcosa qui! Proprio quello che volevo! Ah sì? Per fortuna ho portato queste! Sì! Come se me l'avesse prescritto il dottore! Ti dispiace se assaggio? Prego! Serviti pure! Sembrano fantastici! Oh! Quasi dimenticavo! Un po' di asprezza non farà male! Ottima idea! Saranno deliziosi! Proprio quello che mi serviva! Veramente buoni! Pronto? Oh scusa! Mi sono lasciata trasportare! Possiamo condividerli! Guarda un po'! Guarda un po'! Mmm! Oh! Così romantico! Ed ecco la mia sorpresa! Santi Numi! Questo è il migliore! Ah sì? A me sembra una torta nuziale! Vedi? No! Vuoi? Più di ogni altra cosa! Aspetta! Torna indietro! Aspetta! Giochiamo a sasso carta forbici! Carta! Ho vinto io! Wow! Guarda! Un coccomero scolpito! È tipo un carinissimo e feroce squaletto! Ha un sacco di denti appuntiti! Sono troppo curioso! Vediamo il mio! Oh no! Che paura! È uno squalo! Ho uno squalo nel piatto! Ehi! Aspetta un momento! È uno squalo giocattolo! Certo poteva andarti meglio! Sì! Davvero peggio di così! Però forse ho un'idea! So come rimediare! Ho un tasto! Ora lo premo e vediamo se mi arriva qualcos'altro! E questo cos'è? Prima uno squalo e adesso una zampa di gallina! Decisamente non ti invidio! È persino peggio del coccomero finto di prima! Premo il tasto di nuovo! Dai dai dai! Ti prego! Oh no! No no no! Non sarà mica quello che penso! Non voglio partecipare a Squid Game! No no no! Non se ne parla! Torna da dove sei venuto! Oh c'è mancato poco! Meglio accontentarmi di quello che ho nel piatto! Sì! Finalmente anch'io ho un cocomero! Anzi è un cocomero elefante! Che carino! Ma dentro non c'è niente! Com'è possibile? Il mio invece è pieno di gustosi pezzi di cocomero! Beata te! Ti invidio! Devo ammetterli! Sai che ti dico? Premo ancora un tasto! Sì! Ne ho avuto un altro e stavolta ho anche io un cocomero da assaggiare! E mi hanno dato anche il cucchiaio! Opla! Adesso posso riempire il mio elefante! Bravo! Sono felice per te! Adesso si mangia! Niente male davvero! Mi ci butto anch'io! Quanto è buono e succoso! Tutto ciò che dici è fantastico! Anche se mi racconti la tua manicure! Comunque! Che stai facendo? C'ero quasi! Che succede laggiù? Oh! Fette di anguria gelatinose! Pronto? Ecco! Ho il mio! Interessante! La mia è più scura! Cosa? Ma che scherzo è questo? Ok! Uno! Due! Tre! Via! Ciliegia nere! Buonissime! Più piccanti di quanto pensassi! Prendi! Grazie! Il lavoro di squadra ripaga sempre! Ne ho ancora una! Ehi! La vuoi? Solo un morso! Fallo per me! Se la metti così... ...mi sembra ok! Che faccia che hai fatto! È davvero divertente! Devo provarla assolutamente! Troppo aspra! Anche disgustata sei bellissima! La proviamo insieme? Pronti e... Mordere! Intenso eh! Cosa? Ci siamo trasformati! Ancora? Oh, ciao! Scava, scava tutto il giorno! Wow! Ma guarda un po' cosa ho trovato! È un peschio! Ma com'è strano! Ehi! Ci sono dei dolci dentro! Dovremmo mangiarlo? Ma sì, perché no? Wow! Mi sa che c'era qualcosa di magico! Penso che ne vedremo delle belle! Ok, è arrivato il momento della prima sfida! Una specie di spray! Interessante! Assaggiamo! Ah, è aspro! Molto aspro! Oh, ma ora è buono! Fammi riprovare! Ah, ancora aspro! Ok, beh, buona fortuna! Fammi vedere quello che ho io! Uh, dolci! Pancetta di zucchero, credo! Sarà buonissima, ne sono certa! Assaggio! Un attimo, ho un'idea migliore! Ok, torno subito! Ma dove sarà andando? Guarda, ho una piastra e una padella! Adesso posso cuocere la pancetta! Manca ancora qualcosa! Un attimo! Certo che è proprio strana! Meno male che io ho lo spray! Cos'è questo odore? Oh no! Ha fuoco! C'è un incendio! La pancetta ha preso fuoco! Cosa faccio? Ma certo! Lo spray! Si salverò io! Ah, non funziona! Ho preso delle uova da mangiare con la pancetta! Ma questo coperchio non c'era prima! Ma questo coperchio non c'era la pancetta! La pancetta ha rovinata! Ora è solo carbone! E che puzza! Beh, niente pancetta per me! Voglio aprire prima il mio! Oh, ma cos'è? Guarda, un piccolo coccodrillo! Ed è pieno di polvere verde! Non vedo l'ora di assaggiarlo! Su, avanti piccolo coccodrillo! Dammi quella polvere! Ok, adesso posso assaggiarla! Mmm, sa di mela verde! E si scioglie in bocca! Wow, è un distributore di caramelle! Ma che figo! Ne avrò tantissime! Sì! Una caramella gialla! Finalmente posso mangiare qualcosa! È gommosa! E sa di... Selvatico! Claire! Oh mio Dio! Sei diventata un leone! Ci deve essere qualcosa che ti ritrasformi! Prova questa! Oh no! Adesso sei un teschio! Questa bianca ti aiuterà! Almeno spero! Mi stava prendendo un colpo! Aspetta un attimo! Se ne mangio una verde diventerò un coccodrillo! Voglio avere le squame e i denti a guzzi! Olivia! Cosa stai facendo? No! Ah! Sei uguale! Non è successo nulla! Bleh! Hai appena mangiato una mosca! Sei mezza rana! Ok! Prossima sfida! Io ho un lecca-lecca verde! Spero che sia buono come appare! Buono! Sa di mela verde! Ma è un po' viscido! Anche io lo voglio! Oh! Ma io ho un uovo! Non credo di poterlo mangiare! Credo ci sia qualcosa dentro! Wow! Ma cos'è quella luce? Olivia! Dove sei? Claire! Mi hai ristretta! Come hai potuto? Scusa, mi dispiace! Adesso rimedio! La giterò un bel po'! Dovrebbe funzionare! Sono libera! Ma ora sono rosa! Uh! Anche lecca-lecca è rosa! Non ti dispiace, vero? Mi piace! È come una soffice nuvola alla fragola! Ah! Aspetta! Alziamo insieme al tre! Wow! Ma guarda che fighi! Questi artigli sono fantastici! Stringiamoli allo stesso tempo! Mi piacciono! Che bello! Ma ora pensiamo ai dolci! Il mio ha la fragola! Il mio gusto preferito! Non sapevo ci fossero dei dolci! Chissà che gusto troverò io! Coca-Cola! Il mio sa di Coca-Cola! Bello! Ehi! E questi da dove vengono? Ce n'è una pila intera! E sai cosa significa? È ora di usare gli artigli! Com'è difficile! Ce la posso fare! So che posso! No! Che cavolo! Mancava così poco! Devo prenderne almeno uno! È impossibile! Non c'è modo! Piano! Piano! Ah! Ce l'ho fatta! Ne ho preso uno! Se tu ci sei riuscita ci riuscirò anch'io! Sì! Ho vinto! I perdenti vengono pizzicati! Come ti pare! Io per prima! Eccomi! Uh! Credo che sia una gomma! Sì! È una gomma! Un rotolo intero! Sembra buona! Voglio darle un grande morso! No! Non puoi averne! Non voglio condividere! Ma da dove arriva questa gente? Andate via! Sì! È morbida e gommosa! Quanto mi piace il gusto a mela verde! Wow! Era tanta gomma! Ma tocca a me ora! Ah! Cos'è quel rumore? Che fastidio! Che vuoi? Sto masticando la gomma! Beh! Potresti provare a farlo più piano? Sì! Vabbè! Come vuoi! Sento ancora il tuo masticare! Ma perché sei così rumorosa? Non lo sopporto! Smettila! Accidenti! Va bene! Se per te è così un'ossessione! Ecco! L'ho ingoiata! Finalmente posso vedere cosa c'è qua! Gomma! Anche io ho la gomma! Beh! Ora tocca a me masticare! Oh! Non ne vorrei ancora! Mangi la gomma con le posate? Oh! Quel rumore è terribile! Smettila! Ma cos'è che non va? È insopportabile! Finalmente! Pensavo che non la smettessi più! Voglio un altro po' di gomma! No! Non osare! Oh! Devo allontanarmi da quel rumore! Io me ne vado! È la mia occasione! Gomma, vieni! Adesso aggiungerò altri confetti! Emma adorerà questa torta di compleanno! Penso sia la migliore che io abbia mai fatto! Oh! Ehi! Guarda che torta! Devo assaggiarla! Sì! È proprio buona! Tu vieni con me, torta! Ah! Thomas! Fermo lì! Oh! Oh no! Oh! La mia torta! Mi dispiace! Sistemerò tutto! Guarda! È come nuova! Non è una torta! È un ammasso in forme! No! Non piangere! Guarda! C'è persino la candelina! Era la torta per Emma! E adesso è rovinata! Accidenti! Non volevo rovinarle la torta! Beh! Ma ci sono ancora degli ingredienti! Forse so come rimediare! Forse so come rimediare! Metto tutto in una teglia! Perfetto! Ci sta tutto! E aggiungo dei confetti per un tocco di colore! Bene! Sono abbastanza bravo! Dopo che si è raffreddata si può mangiare! Barrette al cioccolato e marshmallow! E la candela e il tocco finale! Wow! Ma come hai fatto? Mi dispiaceva per la torta! Quindi ho fatto queste per la festa! Che spettacolo! Dai! Andiamo alla festa! La sostanza di cui avevo bisogno! Ehi là! Questa roba sembra interessante! Ti dispiace se l'aggiungo al mix? Ed elementine ovviamente! Ho sentito dire che fa le bolle! Sofia! Non vorrei farlo davvero! Vai dentro! Solo un'altra! Bellissimo! Ehi! Cos'è questo rumore? No! Attenzione! Le mie carte! Ops! È colpa mia! Mi chiamo May! Ottima mossa May! Hai rovinato tutto! Fa le bolle dicevi eh! Serve a qualcosa farlo! Dovevo fare qualcosa! Salvietta umida? Pulisco io! Non ti preoccupare! Adesso ti faccio vedere io! No 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 no! Schiva schiva! Eh già! E guarda questa! La mossa finale! Sì! Mi piace vincere! Nessuno mi può battere! Quando vince è insopportabile! Pensa di essere bravo! Scommetto che ha varato! O ha usato qualche codice per varare! Mi fa arrabbiare così tanto! Aspetta! So io come vendicarmi! Ho lo scotch! Un pezzo bello lungo! Ora le forbici! Ma cosa ci fa un peluche qui? Sì! La mia invenzione è completa! Adesso diamo vita alla mia idea! Thomas! Che c'è? Vuoi la rivincita? Ehi! Quello cos'è? Fermati! È per una gara di bevute! Prima sgancia! Ok! Ecco qua! Ok! 3, 2, 1... E... Bevi! Devo solo bere più in fretta e vincerò io! Ma come fa a bere così velocemente? Devo succhiare più in fretta! Ci sono quasi! Fatto! Sì! Ho vinto! E quindi a me i soldi! Ciao! Vado a fare shopping! Come ho fatto a battermi? Ehi! Ha varato! Ne avevo più di lei! Trina! Tutti pronti? È l'ora del cocomero! Wow! Quanto è buono! Fresco e succoso! 3, 2, 1... 2, 1... Via! In questa sfida non avrò rivali! Ma come fa? Mangia molto più velocemente di me! Finito! Ho vinso! Wow! Che mi succede? Meglio sbrigarsi o resterò in dietro! Guarda che bel posto! Che dici? Devo aprirlo? Ok, proviamoci! Aspetta! Ho un'idea pazzesca! Scambiamoli! Però ottima idea! Vediamo che cosa c'è qui! Ma dai! È un cocomero! Dai così! Stupendo! Bello! Vediamo che cosa ho io! Ma che? Ho soltanto mezzo cocomero svuotato! C'è soltanto la buccia! Uffa! Vediamo come posso mangiarlo! Ammorsi con le mani? Farò bene a procurarmi delle posate, tipo... Non ci posso credere! A lui tutto e a me niente! Ma forse... Mi è venuta un'idea geniale! Devo mettere in atto il mio piano! Un barattolo di slime fa sempre comodo! Ecco qui! Devo solo versarlo dentro la buccia! Eccolo che va! Perfetto! Ho riempito tutto! Adesso aggiungo qualcosa che somiglia ai semini! E per finire un altro scambio... Ecco qui! E lui non si è accorto di nulla! Ci sono finalmente pronto a far farmi questo bel cocomero! Ehi, ma che dia mi è questa roba? Non è un cocomero? È finto, è tutto slime! Wow, che delusione! Sembrava vero! Intanto mangio il mio, non vedo l'ora! E' così, eh? Ah, sono un mostro di slime! Stupido, mi hai fatto paura! Che scemo che sei! Tieni, condividiamo! Oh, grazie! Adesso ti faccio vedere io! No, 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 no! Schiva, schiva! Eh già! E guarda questa! La mossa finale! Sì! Mi piace vincere! Nessuno mi può battere! Ah, quando vince è insopportabile! Pensa di essere bravo! Scommetto che ha varato! O ha usato qualche codice per varare! Mi fa arrabbiare così tanto! Aspetta! So io come vendicarmi! Spuccarmi! Ho lo scotch! Un pezzo bello lungo! Ora le forbici! Ma cosa ci fa un peluche qui? Sì, la mia invenzione è completa! Adesso diamo vita alla mia idea! Thomas! Che c'è? Vuoi la rivincita? Ehi, quello cos'è? Fermati! È per una gara di bevute! Prima sgancia! Ok, ecco qua! Ok! 3, 2, 1... E bevi! Devo solo bere più in fretta e vincerò io! Ma come fa a bere così velocemente? Devo succhiare più in fretta! Ci sono quasi... Fatto! Sì, ho vinto! E quindi ame i soldi! Ciao! Vado a fare shopping! Come ho fatto a battermi? Ehi, ha varato! Ne avevo più di lei! Tina! Ti va di ballare? Dai, iniziamo! Oh! Apriti sesamo! Ho vinto la lotteria! Zucchero filato al cioccolato! È buonissimo! Me lo merito proprio! Guarda quanti sono! Carini, vero? Mmm, una festa per le mie papille gustative! Wow! Sono davvero qui? È tutto meraviglioso! Tocca a me! Oh, wow! Vieni! C'è un clima perfetto! Non ci credo! Restiamo qui per sempre! Wow! Incredibile, vero? E per me? Questo è proprio il mio genere! Anguria appena tagliata e coni gelato! Sono carini! Ma dov'è il gelato? Ho capito! Ci servirà uno di questi! Giusto! Un porzionatore! Sei fantastica! Wow! Guarda come tira fuori la polpa! Su cosa? Sì! Entra alla perfezione! Oggi doppia porzione! Solo il meglio per il mio angelo! Gnammi! Ma potrei aggiungerci qualche extra? Come se piovesse! Così! Buonissimo! Una miriade di sapori! Fa provare anche a me! Grazie! Buonissimo! Ma potrei arrivare anche qui! Il mio diploma! Mamma! Ce l'ho fatta! Ti vedo tesoro! E sono così fiera! Oh! Aspetta! Quello che cos'è Lily? Tesoro i tuoi denti? Eh? Sì! Sono la lattuga! Grazie per il vostro sostegno! Sì! Oh no! Ma che figura! Questo è il mio momento di gloria, scusami! Vattene! Niente foto! Già! E io rimango qui! Tutto più bello della giornata, l'ora dello snack! Mmm! Sarà buonissimo! E ci metto sopra un uovo! Ora sì che è un sandwich! Ehi! Dove pensi di andare? Oh no! Ok! Se la metti così... Wow! Ehi! Calmati! Questo è mio! Ti faccio un altro uovo! Ma prima ho bisogno di un po' d'aglio! Disegna un quadrato con l'aglio nella padella! Così! Poi versaci l'uovo! L'aglio fa da barriera! Così avrai un uovo quadrato! Provalo! Non scivola! E ora finalmente posso mangiarlo! Com'è? Buonissimo! Te ne sei guadagnato un morso! Delizioso! Oddio! Sono stanca! Sì! Questo dobbiamo troppo farlo! Oh! C'è già la cloche! Wow! Che bel aspetto! Quest'anguria! Oh! Si è addormentata! Ehi! Svegliati! Non è l'ora del pisolino! Dai! Ma devo farlo da sola! Mi è venuta un'idea! Ehi! Oddio! Ma che succede? Sei incinta! No! Non vedo l'ora che nasca! Aspetta! Calmati! È solo uno scherzo! Non sono incinta! O meglio, sono incinta ma... Di un'anguria! Wow! Non male come bambino! So cosa dobbiamo farci! Dammi! Ehi! Ma che fai? Abbiamo solo questo! Non ti preoccupare! So cosa faccio! Ho anche una fascia! Spronta per tagliarlo in mille pezzi! Oh mio Dio! Sei fuori controllo! Stai attenta! E tac! E tac! Ah! Basta! Basta! Fermati! Certo! Non ti sei nemmeno guardata il video! Ok! Ecco l'anguria! Ok! Ok! Tolgono la buccia col coltello! Oh! Ne lasciano un pezzo al centro! E ora tolgono delle fette di anguria! Non capisco bene dove vogliono arrivare! Oh! Ora lo tagliano a fettine! Oh! Ho capito! Saranno carinissimi! Infatti! Guarda che bel piatto di anguria! Bellissimo! Wow! Non ci credo! Già lo hai fatto! Pazzesco! Esatto! Vedi? Ora hai capito perché ti ho fermata! Fammi assaggiare! Wow! Questa sì! Che è una buona anguria! Dolce e succosa! Chissà che succede nel prossimo video! Uh! Guarda il caramello! Sembra buonissimo! E la cioccolata! Ma che fanno? Lo mettono nell'acqua col ghiaccio! Ah sì! Così il caramello rimane morbido sotto alla cioccolata! Bel trucchetto eh! Cavolo! Ma abbiamo finito i popcorn! Non ci sono più! Uffa! Ma io ho ancora fame! Aspetta certo il video! Wow! La magia ci ha ascoltate! E ci ha già consegnato tutto! Ok! Vediamo un po' che abbiamo qui sotto! Uh! Banane e mirtilli! Oh sì! Mica male eh! Io assaggio! Wow! Ora intingo anche questo! Oh sì! Saranno buonissimi! Apriamo anche questa! C'è l'acqua ghiacciata! Immergiamoli! Direi che sono pronti! Ora che si sono freddati! Assaggiamo finalmente! Oddio! Addirittura più buono di quanto pensassi! Vero! La mia banana è buonissima! Aspetta! Credo di avere un'idea! E se provassi con un cetriolino? Oh sì! Sono un genio! Ora lo intingo! Oh sì! Proprio così! E ora nel ghiaccio! Assaggiamo! Uh! Delizioso! Mamma mia! Tieni assaggia! Ma no! Allontanati da me! Che schifo! Comunque io ho la mia cipolla! Che mi serve il cetriolino? Intingiamo! Tieniti il tuo cetriolino! Guarda qua! Bellissima! E ora diamo un bel morso! Ma non è cattiva! Anzi! È buonissima! La adoro! A me basta il mio cetriolino! Grazie! Devo dire che è andata bene! Sì! E a ciascuno è il suo! Doppia fetta di pane! Sei pronta? Pronto? Come va? Stai scherzando? Oh! Fa caldo qui, eh! Saremo tutte tostate! No! Ma che è successo? A breve finisce, vero? Ci siamo quasi! Stiamo per risalire! Da un momento all'altro! Il toast! Ti richiamo, eh! Odio quando succede così! Troppe distrazioni, immagino! Ah! Attacco! È il meglio che sai fare! Non hai ancora visto nulla! Guarda! No! Tutto tranne questo! Oh oh! Sono le nostre mamme! Il pranzo era davvero buonissimo! Ma che ragazzi! Cosa sta succedendo qui? Che disastro! Ce pongo ovunque! Cosa avete fatto? Sono mostri! È stato Jared! Cosa? Non è possibile! È stata Madison! Stai pensando quello che penso io? Questo è tutto il tuo! Wow! Che cosa è successo? Che importa? È stato divertente! Sì! Sì! E guarda i nostri vestiti! Sono... Sono bello! Ho tanta fame! Wow! Abbiamo dei cupcakes! Wow! È perfetta! Devo... Si coraggioso, Jared! Che schifo! Cosa stai facendo? Cosa? Stavo scherzando! Che imbarazzo! Come se Madison fosse interessata a me! Cosa devo fare? Fammi pensare! Lo so! Sì! Molto meglio! Sto benissimo! Ehm... Madison? Non ti avvicinare! Faccio karate! Non capirò mai le ragazze! Cosa sto facendo di sbagliato? Mi arrendo! Aspetta un attimo! Ma certo! È meglio che mi metta al lavoro! Metto questo stencil sul mio cupcake! Poi con l'aiuto di un tubetto applico della glassa viola! Devo solo riempire la stella! Facilissimo! Poi lo sollevo con cautela! Ora aggiungerò dei cuoricini! E non possono mancare gli zuccherini! Che carini! Miam! E vai! Il mio cupcake è pronto! È bellissimo! Madison non riuscirà a resistere! Dammelo! Non c'è niente di meglio di un dolce gratis! Non vedo l'ora di assaggiarlo! Quindi? Com'è? È così buono! I miei complimenti allo chef! Wow! Questo è il giorno più bello della mia vita! Il mio primo bacio! Mia madre non conta! Hai qualcosa sulla faccia! Farò tesoro di questo momento! È meglio che lo aiuti! Ho un'idea! Ho delle caramelle! Le infilo in uno stuzzicadenti! Scaldo un po'! Mh! Deliziosa! È proprio come essere in campeggio! Aspetta il mio cupcake! Ecco fatto! Infilo piccoli pezzi di caramella sullo stuzzicadenti! Userò caramelle di colore diverso! Voglio riempire lo stuzzicadenti! Posso metterle da parte! Giro il cupcake su un lato! Ho fatto dei piccoli supporti con il fondente! Li infilo nella base del cupcake! Me ne servono tre posizionati ad angolo! Poi ho bisogno della sac à poche! Ricopro la parte superiore del cupcake con la glassa! Farò dei cerchi! Ora ci metto dello sciroppo di fragole! Ok, qual è il prossimo passo? Ho fatto un reticolo di cioccolato! Poi metto gli spiedini di caramelle sopra! C'è spazio per un altro? Direi che ci sono! Ho fatto un cupcake a griglia di barbecue! È così carino! Facciamo una prova! Wow! Mi hai stupito! Ehi, puoi prendere questo! Davvero! Grazie! Mmm, è buonissimo! Sì, ho lavorato sulle mie abilità nel barbecue! Uh, zucchero filato! Lo adoro! È così soffice! Ti ricorda qualcosa? Posso avere un indizio? Che aspetto ha? Aspetta, ci sono! Una nuvola! Prepariamo i frullati di nuvole! Mi piace questa idea! Verserò la crema nel bicchiere! Deve essere perfetto! Non sono bravo sotto pressione! Ok, il mio lavoro qui è finito! Wow, hai fatto un buon lavoro! Dobbiamo congelarli! Forza, iniziamo! Li mettiamo in frigorifero! Posso fare questa parte? Dammi il 5, amico! Uff, quanta responsabilità! Ora prepariamo i nostri frullati! Direi che abbiamo tutto quello che si serve! Oh sì, sarà fantastico! Fantastico! Inizierò con le caramelle! Le metto nel frullatore e avremo bisogno di patatine! Che altro? Oh, un limone! Deve venire un succo! E non può mancare la senape! Una bella spruzzata! Questa è un'idea fantastica! E ora? Aggiungo lo zucchero filato e ora abbiamo bisogno di latte! Ho un buon presentimento! Ok, metti il coperchio! Sì, non vogliamo mica sporcare tutto! Siamo pronti! Aumenta la potenza! Guarda come va! Wow, che emozione! È ipnotico! Penso sia pronto! Versiamolo nei nostri bicchieri a nuvola! Non vedo l'ora di assaggiare! Oh, è così denso! Di solito è un buon segno, giusto? Non dimentichiamo la cannuccia! Wow, è un'opera d'arte! Bello è bello! Speriamo sia anche buono! Ecco, è delizioso! Devi assaggiare! Io mi faccio il mio! Nessun problema! Aggiungo caramelle e una cipolla! Avrò sicuramente bisogno di zucchero filato! Ora aggiungo questo succo! Un sacco di sapori! Avrò un sapore tropicale! Sarà il drink perfetto per le vacanze! Il prossimo passo è il latte! Sono un genio della cucina! Dovrei scrivere un libro di ricette! Non mi spingerei così lontano! Ora posso dare un'occhiata! Gira, gira! Più potenza! Dov'è il mio bicchiere? Ai! Come on! Ta-da! Riempio il bicchiere! Tutto viola! Ho la colina in bocca! Ti aspetti? Bevilo! Ti serve questa? Cosa farei senza di te? Sono molto soddisfatto! Dovrebbe essere in una galleria, ma invece finisce nella mia bocca! Wow! Mi sta facendo impazzire! Brindiamo alla nostra! Tieni qui! Wow! Aspetta! Aspetta! Dammi qua! Ah! Così va molto meglio! Queste carattere saranno buonissime! E adesso i broccoli! Un po' d'olio! L'olio farà una grande differenza, sì! E devo anche aggiungere qualche spezia! In forno! E' ora di cuocervi! Ok, devo mettere i timer! Non voglio scordarnele! Ah! Com'è rilassante, vero? Oggi vi sto proprio godendo la giornata! Hai sentito? È una specie di allarme? Devo controllarle! Le giro un pochino! Ok! Andate di nuovo in forno! Oh! Immagino che dobbiamo girarci, sì! Ecco tappi! Alla salute! L'insalata è eccellente! Guarda quegli spicchi d'albi! Non c'è nessuno! Voglio assaggiarne uno! Sai che c'è? Me li mangio tutti! Sono così buoni! Un olio alito! Ciao! Ciao! Che alito pesante! Aspetta un attimo! Ecco a te una gomma! Credimi ti serve! Grazie! È terribile qui dentro! Meno male che posso rinfrescare un po'! Che schifo! Avrà mangiato un chilo d'aglio! Aspetta un attimo! Ma chi diavolo è quella? Chiosa! Che cosa ci fai qui? Sono stata invitata! A tutti piace l'aglio! Devi andartene! L'aglio piace a tutti! Ma a nessuno l'alito pesante! La polizia degli aromi! Non voglio andare in prigione! Ciao aglio! Benvenuta in cella! Questo non è giusto! Non mangiare mai più aglio! Anosci anche tu ricette fantasiose a base di cocomero? Fatti sentire nei commenti! Non dimenticare di condividere il video con i tuoi amici! E di iscriverti al canale per altri video come questo! E di iscriverti al canale per i tuoi amici! Sì, anche io! Mangiamo? Questa pasta ha un aspetto delizioso! E ora da dove inizio? Non penso vada bene la forchetta! Le mani! Ma è sgusciato o no? No! Hai ordinato a domicilio! Scusate! Ah, non credo Emma se ne si accorta! Meno male! Riprovo! Dai, forza! Vieni via! Ma è ridicolo! Ha delle monete! Grazie! Grazie, cara! Cosa? Ma è un gambero! Oh, caspita! Lo è! Chi farebbe una cosa simile? Voglio solo soldi io! È succo di gambero? Interessante, sì! Stupido guscio! Ecco fatto! Ecco fatto! Ah! 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 Non sa perché sto ridendo! Non è finita! Ti mangerò! Fosse l'ultima cosa che faccio! Tutto ok? Prendi la forchetta e usa un dente per rimuovere il guscio! Poi, sbuccia! Facile, no? E sembra delizioso! Ecco qua! Sei la dè dei gamberi! Oh, buono! Grazie! C'è del ghiaccio da qualche parte? Neanche del succo, eh? Ma mentre Adam è via... Gli ospiti vogliono giocare! Oh, oh! Cosa? Il buffet sta diventando un domino! No! Sta per cadere! No! In un attimo, tutto è rovinato! Ops! Che dovrei fare adesso? È colpa mia, pulisco io! Ma forse non tutto è perduto! Questo ragazzaccio potrebbe salvare la giornata! Hai una bella anguria? Togli la polpa! E crea un buco su un lato! Prendi un beccuccio come questo! E mettilo nel buco! Non dimenticare di fissarlo all'interno! Ora è il momento di riempirla! Puoi usare succo, acqua, soda o qualsiasi cosa! È ora di bere! Qualcuno ha sete? Wow! Ma come ti è venuto in mente? Erogatore di succo? Alla salute! Ed è proprio rinfrescante! Bella pensata! Ehi! Facciamo una pausa snack! Ci sediamo qui! Un po' di zucchero per tirarci su! Ci sto! Da quando è che non ti lavi le mani? Sono lerce! Che ci hai fatto? Un dollaro! Che fortuna! Che bravo cucciolone! Sono nuovissime! Ora pulite! Che schifo! Sara! No! Oh, scusa! Ne vuoi un pezzo? È un po' squagliato! Non può succedere! Scusa, puoi smetterla! Un attimo! So cosa fare! Se metto la bottiglia qui... E ci faccio rotolare sopra la barretta... I pezzi si rompono! Senza nemmeno toccarli! Va fatto su entrambi i lati! Vediamo se è funzionato! Apriamola un po'! Ta-da! Pezzi perfetti! Non toccarli, eh! Uno a te e uno a me! Strano! Ma ok! È buonissima! Buon appetito! Passerò un pomeriggio senza telefono... E so esattamente cosa fare! Ah? Mi sta chiamando Kevin? Quale scelgo? Beh, Kevin immagino! Ehi, come va? Aspetta un attimo, ok? Oh, la mia caramella preferita! Ma che fortuna! Limone e fragola l'adoro! Oh, quello era mio! Ora non lo voglio più! Beh, ora mi dispiace! Vedi questa palla di plastica? Aprila! E mettici le tue caramelle preferite! Ora metti un goccio di colla a caldo! E attaccaci un bastoncino di legno! Poi incartala con la carta che preferisci! Ehi, Lizzie! Vorresti il tuo lecca-lecca? Che ne dici di due giganti? Sembrano maracas, non è vero? Ora sì che hai un motivo per ballare! Ed è tutto tuo! Ora non puoi mica essere arrabbiata! È il lecca-lecca più grande che ho abbia mai visto! Aprilo! Ehi, ho un'idea! Guarda! Ora lo vedi, ora no! Bel trucchetto, vero? Wow, sei davvero una maga! Voglio provare anch'io! Troppo forte! Rifacciamolo! Buona idea! È così bello! Lo so, è vero! Aspetta, hai sentito anche tu? Che succede? Ehi, ma dove siamo? Ho un buon presentimento! Pronta? Tiriamo a sorte! Le forbici battono la carta! Wow, guarda! È un bulbo oculare gigante! Accidenti! È stranissimo! Non ho mai visto niente di simile! È enorme! È più grande della mia testa! E mi fa venire i brividi! Non riesco a toccarlo! Oh oh, eccolo che arriva! Attenzione! Cosa? Che forte! Ok, non me l'aspettavo! Sono così morbidosi! Provo ad assaggiarne uno! Com'è? Buono! Moltissimo! Apri il tuo! Oh, me ne ero dimenticata! Anch'io ho degli occhi! Tantissimi occhi! Sono proprio una marea! Aspetta, fammeli vedere meglio! Non sono molto convinta! Ah, che potrà mai succedere! Allora che ne dici? Wendy? Sì? Qualcosa non va? Perché mi fissi? Che c'è, Lily? Ah, hai qualcosa sulla faccia? Vabbè, per qualche briciola! Aspetta, che vuoi dire? Che... Che cos'ho in faccia? Tranquilla, sistemerò tutto! Ecco, prendi questo! Spero che funzioni! Ah, così va meglio! E adesso? Non riesco a guardare! Sta indietro! Ehi, calmati! Oh, giusto! Beh, è stato imbarazzante! Guerra di pollici! Ti batterò! Ti sei esercitata, eh? Sì, sono una professionista! Aspetta, Lily? Sto cercando di concentrarmi! Ok, continua pure! Oh, sì, jackpot! Stiamo ancora giocando? Oh, che cos'è? Piuttosto interessante, eh? Mi piace! Proviamola! Augurami buona fortuna! Guarda, caramelle! Ah, fantastico! Potrei abituarmi ci! Chissà di che cosa sanno! C'è solo un modo per scoprirlo! Oddio, è una bomba! Ne voglio ancora! Wendy, posso averne una? No, sono mie! Mi prendi in giro? Che cattiva! Non importa, tanto io ho questo! Vediamo! Oh, soldi! Sono ricca! Mi è andata proprio bene! Già, bel colpo! Ho grandi progetti, tipo shopping sfrenato! È il giorno più bello della mia vita! Sì, sarà fantastico! Devo fare una telefonata! Pronto? Vorrei fare un ordine! Perfetto, grazie! E adesso aspettiamo! Consegna speciale per Liri! Wow, è stato velocissimo! Ecco a te! È uno scherzo? Molto divertente! Imbarazzante! Beh, vorrà dire che li terrò tutti per me! Ha un buonissimo profumo! Cioccolato! Ti piacerebbe, scommetto? Vuoi fare uno scambio? Ok, ci sto! Ecco a te! È stato un piacere fare affari con lei! Aspetta un attimo! C'è qualcosa di diverso! Ma come hai fatto? Io non lo so! Che sta succedendo? Sono confusa! Au! I miei denti! Non lo voglio più! Tieni! Come? Ma... Che strano! Non me lamento! Proviamo! Non male! Mi piace questo gioco! Voglio ancora fare shopping! Ci sono quasi! Ehi! Non così in fretta! Prima voglio finire questo! Mi aiuti? È una stupidaggine! Aspetta! Questa è la mia occasione! Gelato! Ora sì che ragioniamo! Ha un aspetto così delizioso! Ho già pronto il cucchiaio! Si mangia! Come immaginavo era facilissimo! Aspetta! Non rimpiango niente! Ne è valsa la pena! Ma che succede? Lo vedi anche tu? Aspetta! Posso risolvere il problema! Devo pensarci su però! Forse se... Nah! O forse... Oh! Ci sono! Lily è vestita di rosa! E c'è rosa dappertutto! Ho trovato! È il colore! Era facile da capire in realtà! Indossa questi! Sul serio! Pensi che funzionerà? Tanto vale provare! Voglio solo il mio gelato! Non sono proprio il mio stile! Oh! Guarda un po'! Adesso è rosa! Sono sbalordita! Sei un genio! Sono felice di averti aiutata! Wow! È incredibile! La cosa migliore che abbia mai assaggiato! Ok! È il mio turno! Anch'io del gelato! Sì! È proprio il mio giorno fortunato! Voglio dire! Guardatelo! Ed è tutto mio! Pancia mia! Fattica panna! Oh oh! Non va bene! È troppo duro! Ehi! Ma insomma... La cosa comincia a diventare fastidiosa! Ok! Passiamo alle maniere forti! Prendi questo! Non capisco! Prova a leccarlo! Oh certo! Perché non ci ho pensato prima? Ah! Lily! Credo di avere un problema! Davvero? Sono bloccata! Devi fare qualcosa! Per favore! E che cosa? La mia lingua non si stacca! Ho paura Lily! Smettila di tirare! Non riesco a guardare! Aspetta! Credo che funzioni! Au! Quindi è così eh! Stai bene? Aspetta! Stai pensando a quello che penso io? Oh sì! Un pollo! Cosa? Ma no! Facciamo finta che non sia successo! Vai col phon! È così eccitante! Ok basta! È buonissimo! Mai mangiato qualcosa del genere? Grazie Lily! Figurati per così poco! Scoperchiamo? Vai! E questo che cosa dovrebbe essere? Qui c'è qualcosa che non va! Che schifo! E io che dovrei dire scusa? Ho in mano della sbobba rosa! Facciamo a cambio? Levamelo di torno sì! Ora ci siamo! E sai che ce n'è un altro, vero? Apriamo! È una torta! E sembra buonissima! Questa la prendo io! Inseguilo Lily! Fermo! Odio correre! Dammi quella torta! Mai! Oh oh! C'è un'altra torta! Oh oh oh! Cado! Bisogna proteggerla! L'ho salvata! Sono un eroe! Consegnamela! Gnè gnè! L'hai presa! Il crimine non paga! Ok decoriamola! Io faccio un lato! Ed io faccio l'altro! Oh è divertente! Ed è bellissima! Non lasciamo spazi vuoti! Non vedo l'ora di provarla! C'è ancora tanto da fare! Non sprecare neanche una goccia! Bene ci siamo! Ok prendi gli zuccherini! Una bella spolverata! Mettiamo quel di rosa su questo lato! Ottima idea! Penso che sia pronta! Possiamo mangiarla? Non riesco più a resistere! È perfetta! Penso che ci meritiamo! Uno spuntino! Mangiamo! Speravo che lo dicessi! Chi ha bisogno di un cucchiaio? È molto meglio così! Wow! È così leggera e soffice! Non ho mai assaggiato niente di simile! Ne voglio ancora! Che stiamo aspettando allora? Sei pronta? Uno, due, tre! Vincerò io! Sono sicura! Non se ne parla! Vincerò io! Ho vinto! Ma che è successo? Perché ho i capelli blu? Ah va! Devo sbrigarmi a raggiungerla! Gabby! Ce l'hai fatta! Dovremmo affrontare una sfida! Do solo una sbirciatina! Posso scambiarle senza che lo veda! Fatto! Non se ne accorgerà mai! Pronti? Diamo un'occhiata! Oh! Ho del gelato! Non vedo l'ora di gustarmelo! Sarà il più buono di sempre! Non ci sono dubbi! È buonissimo! Guarda quanti bei dolcetti! Ma sento freddo! Non dirlo a me! Si gela qui! Oh ma guardati! Tieni! Riscaldati! Anche un berretto! Grazie! Mi sento già molto meglio! A noi due adesso caro gelato! Ehi! Perché me l'hai tolto? Basta così! Mi hai avuto troppo! Se vuoi qualcos'altro prova questi! Va bene! Allora assaggio questi! Sono buonissimi no? In effetti ne farei una scorfacciata! Vero? Ne prendo un altro po' anch'io! Ehi! Ma è vuoto! Oh no! Ne è rimasto soltanto uno! Dai è tuo! Ma no! Figurati dai! È tuo! Va bene! Guarda che cosa riesco a fare! Wow! È incredibile! Visto? E guarda! Ho un regalo per te! Oh ma grazie mille! Sei dolcissima! Secondo te cosa ci aspetta adesso? Non è arrivato ancora nulla! Forse c'è qualcosa sotto i piatti? No! Non c'è niente! Abbiamo solo dei piatti vuoti! Gabi! Forse dobbiamo chiudere gli occhi! Ah! È spuntato qualcosa? Non ci vorrà ancora molto vedrai! Visto! Ha funzionato! Guarda i piatti! Wow! Ma che cos'è una lozione? Immagino di doverla provare! Ne spremo giusto un po' sulla mano! Così dovrebbe andare! La spalmo per benino! Che strana lozione però! Ma non è una lozione! Ah va! Oddio che scena! Guarda me! Ecco che cosa devi fare! È chewing gum! Vedi? Ah cavolo! Adesso ho capito! Guardami! Faccio il palloncino! Fantastico! Come viene bene! Gabi aspetta! Fermati! Oh no! Ho chewing gum dappertutto! Siamo tutte impastricciate! Che figura! Pronta? Chiudiamo di nuovo gli occhi! Sì! Ha funzionato! E abbiamo altre gomme, sembra! Sì! La tua è tutta spezzettata! Che buon profumo! Assaggiamo! Che delizia! Guarda quante ne ho! E sono anche carinissime! Sai che ti dico? Ne prendo una bella manciata! Le unisco tutte insieme belle e stritti! Ecco! Guarda che enorme palla ho fatto! E adesso un palloncino da record! Quel palloncino è gigantesco! Chissà quanto riuscirò a farlo grande! Wow! Abba! Niente male! Era un sacco divertente! Dici? Allora forse è giunto il momento di una nuova sfida! Va bene, comincio io! Dammi solo un attimo! Quando vuoi, Gabi? Eccomi! Oh, cavolo! Non era granché! Ci riprovo! Ok? Forza! Diventa più grande! Ancora una volta ci riuscirò! Lo sento! Ops! Questo è anche volato via! Direi che è il mio turno! Bisogna fare un po' di riscaldamento prima! Così! Ah, vada a centaglio e soffio il palloncino! Dai! Va bene, sono pronta! Eccoci! Wow, wow! Abba, aspetta! Abba! Abba! E torna qui! Stai volando via! Fanno scoppiare, altrimenti ti trascinerà! Oh, accidenti! Ed è volata via! Adesso che cosa faccio? Sotto con la prossima sfida! Wow, guarda quante gomme che ho! Ed io soltanto un pezzetto! Non è mica giusto, eh? Ah, ma sono buonissime! Con meraviglia! Ma guardala! Non è giusto, davvero! Dovrò accontentarmi di questa! Au! Non è soltanto minuscola, è anche dura! Ehi, mi è venuta un'idea! Con questi denti finti farò uno scherzo! Anzi, di denti finti ne basterà uno soltanto! Lo infilo dentro la gomma, ancora un po'! E si va in scena! Ci cascherà alla grande! Sarà lo scherzo più memorabile che ho mai fatto! Ci siamo! Oh, ne ha presa un'altra! Oh, ci sta mettendo un'eternità! Che noia! L'ha presa! Ci siamo! Adesso si ride! Au! Ma che cos'è? Come mai questa gomma è così dura? Oh mio Dio! Un dente! Un mio dente! Tranquilla, Gabby, guarda! Ah, un altro dente! Ah, sei la peggiore! Te l'hanno mai detto? Apriamo gli occhi! Piatti pieni di delizi! Che belli! Bastoncini rosa! Non sto nella pelle! E guarda quanti sono! Un piatto intero! Guarda che baffoni che ho! Io sì che devo interpretare Wolverine! Sono un trichego! Ti mordo! Gabby, sei ridicola! Però un po' ti invidio! Con i miei non posso giocarci! Oh, forse sì! Posso metterli sulle dita! Sono così morbidi! Che bei cuscinetti! Adesso li mangio tutti! Guarda che bella fila! Guarda che faccio! Sì, preso! Niente male! Ci sai fare! Grazie, è troppo buono! Ehi! Pensi quello che penso io? Bacchette di biscotto! Si fa la festa! Dolcetti per afferrare altri dolcetti! Oh sì, vai così! Vorrei che ne avessimo ancora! Ehi, aspetta! Ho appena mangiato le bacchette! Giusto, mi ero scordata! Mangiamo anche queste! Sono croccanti! Ehi! Non abbiamo niente! Guarda che roba! È caduta dal cielo! Un'intera scatola di gomme! Forza, apriamola subito! No, la apro io! Oh! Ma voglio aprirla io! Oh! Sì, ho vinto! Aspetta un attimo! Ma cosa? Sono blu! Oh cavolo! Ci siamo scambiati! Beh, immagino sia la punizione per aver litigato! A quanto pare continueremo così la sfida! Dai, basta lamentarti! Ci sono gomme da assaggiare qui! Forse possiamo rimediare, sai? Perché no? Proviamoci! Ok, chiudi gli occhi ed esprimi un desiderio! Direi che può bastare! Ha funzionato! No, abbiamo ancora i colori scambiati! Ma aspetta! Dobbiamo scambiarci anche le gomme, certo! Adesso controlliamole! Beh, tanto vale assaggiarle, immagino! Provo a fare un palloncino, forse è il problema! Ah! Il palloncino è scoppiato e sono tornata blu! Sì! Ma dai, allora provo anch'io! Sotto col palloncino! Sì, ha funzionato! Meno male, io adoro il rosa! Ce l'abbiamo fatta da 1.500! Spiazzerò tutti quanti con questa cena deliziosa! Basta usare ingredienti freschi, giusto? Oh! Sì! Oh, credo che il pollo sia pronto! Ma che delizia! Oh beh, forse è un po' troppo cotto! Avrà ancora un buon sapore, vero? Posso rimediare, giusto? Accidenti, ma perché il timer non è scattato? Mi hai fregato, stupidino! Mi serve una soluzione al volo! Ci sono, che genio! Pronto, e vorrei fare un ordine, salve! Grazie! Che velocità, grazie ancora! Ha un profumo migliore del mio! Non è bellissimo? E sul piatto? Sì, sembra proprio opera mia! Oh, l'ospite! Che buon odore! È per me! L'ho fatto io! È caldo, stai attenta! È un po' incasinato, vero? Direi di sì! Per me basta così, grazie! Ma era davvero buono! Ti faccio vedere una cosa, ok? Sei pronto? Prendi una piadina e tagliala a metà, proprio così! Poi su ogni quarto aggiungi un ingrediente! Potrebbe essere un condimento oppure una salsa! Prendi una piadina e tagliala a metà! Vedi? Piega ogni quarto in questo modo uno per volta! E l'ultimo! Perfetto! Così non cascherà niente! Vieni! Buono, vero? Non li farai mai più in nessun altro modo! Sembra interessante! Ciao ragazzi! Oggi ho dei buonissimi dolcetti rosa! Mmm, dolcetti! Proprio quello di cui ho bisogno! Ups! Il crimine perfetto! Mmm, ho cambiato idea! Voglio quello più grande! Ah, adesso sì! Fate sempre le cose in grande! Ha un aspetto delizioso! Mmm, infatti è ottima! È molto masticabile! Meglio che la rimetta a posto! Non voglio farla arrabbiare! Poi ho queste! Aspetta! C'è qualcosa che non va! La gomma è blu! Ma cosa fai, amico? Ehi! Mamma, salvami! Nessuno mi ruba le patatine! Ah, come ti pare! Pronta? Sono nata pronta! Wow, guarda qui! È una fontana di cioccolato! È bellissima! Cioccolato blu! Sto sognando! Abbiamo anche dei dolci! C'è di meglio! Stai scherzando! Guarda quante caramelle blu! È perfetto! Cosa stiamo aspettando? Voglio andare io per primo! Avrò bisogno di questo! Comincio da questa caramella morbida! Mmm! Sembra ottima! Ok, adesso... Lui, il pesce gommoso! Ne servono ancora! Sono nel paradiso delle caramelle! È incredibile! Ora lo immergo nel cioccolato! Oh, wow! In teoria sarei a dieta! Ma poco importa! Non posso resistere! Così dovrebbe andare! Spero sia buono quanto è bello! Wow, è anche meglio! Sono così felice in questo momento! Insomma, guardalo! Ho un tripudio di cioccolato! Credo di essere innamorata! Ah, ti senti bene? È il mio turno! Da dove inizio? I macarons! Lo ricopro di cioccolato! Non ho mai provato il cioccolato rosa prima d'ora! Deve essere il mio giorno fortunato! Andiamo! È fantastico! Vero? E adesso... Proviamo con te! Aspetta! Ho un'idea migliore! Lo metto qui! Cosa stai facendo? Vado a fare una nuotata! Aspetta, cosa? Come hai fatto? Non ne ho idea! Ehi, vieni! È della temperatura giusta! Sono a posto, grazie! Figurati se tocco qualcosa di rosa! Ma so cosa fare! Mi servirà questa! La uso per aspirare il cioccolato! Sarà fantastico! È il momento di divertirsi! Ehi, Hazel! No, non farlo! Miles, no! Smettila! Che cosa hai fatto? Oh, il blu non è il mio colore! Chissà cosa sarà questa volta! Scopriamolo! Wow, gelato! Che fortuna! Adoro il gelato! È uno scherzo! Un'anguria! Cosa dovrei farci? Sono confusa! Ehi, gelato! Dai indietro, confettino! Che cattivo! È bello condividere! No, è tutto mio! Uh! Che c'è ora? Bello, eh? Lo porti sempre con te! Sì, come questo biscotto! Può sempre tornare utile! Metto il biscotto su un piatto! Adesso mi servirà questo! Prendo una bella pallina di gelato! Potrei mangiarlo anche adesso! Lo metto sul biscotto! Un altro po'! Così dovrebbe bastare! Ora lo appiattisco! È un artista! È un capolavoro! Non è ancora visto niente! Ora ci metto un altro biscotto! Ma non ho ancora finito! Sto per renderlo ancora più buono! Lo intingo negli zuccherini e... Guarda qui! Mi sono superato! Sentiamo com'è! Mmm, è delizioso! Da perdere la testa! Non riesco a smettere di mangiarlo! Ah, che invidia! Torniamo al mio cocomero! Ho apprezzato ogni singolo boccone! Che cosa ne farai? Accetto suggerimenti! Devo fare sempre tutto io! Dai, dimmi! Saluta questo ragazzaccio! L'anguria non ha scampo! È più pesante del previsto! Che botta! Sto soffrendo tantissimo! È bello resistente! Grazie per l'aiuto! Ci penso io, va! Credo di essere io quella forzuta! Beh, ti ho spianato la strada! Sì, come no! Me lo rinfaccerà a vita! Ora estraggo la polpa! Non dovrebbe volerci molto! Ma che... Ma che... Ora mescolo il tutto! Muah, ah, ah! Deve essere bello liscio! Oh sì, più potenza! Guarda, ha cambiato colore! È così rosa! È ora di congelarlo! Ora posso dividerlo! Gelato all'anguria! Sarà fantastico! È incredibile! Prova, dai! Con permesso! Non sarà buono mai come il mio biscotto! Wow, aspetta! Tutto bene? Oh, fa così caldo! Dammelo! Ehi, lo stavo usando! Lo vedi anche tu? È una bevanda fresca e dissetante! Proprio quello che volevo! Devo provarla! E guarda che bel bicchiere! Speriamo sia buono! Aspetta! Cosa c'è che non va? È caldo! Cosa ci fai con quello? Devo controllare una cosa! Aspetta! Già, proprio come sospettavo! Col cavolo che la bevo! Cosa farai? Ho un piano! La verso in questo contenitore! Senza rovesciare nulla! Ora viene il bello! Guarda qua! Non sto nella pelle! Lo schiaccio! È un ottimo antistress! Credo stia funzionando! Diciamo che è una sorta di granita! Proprio quello che cercavo! Verso di nuovo nel bicchiere! Ed ecco fatto! Wow, è una maga! Proprio quello che volevo! Ok, è il mio turno! Ho bisogno di una cannuccia! La metto nel bicchiere! Aspetta! Qualcosa non va! È troppo piccola! Non va bene! Ho un'idea! Ehi, Miles! Ho qualcosa per te! Sei la migliore, Hazel! Dov'è l'altra estremità? È bella lunga! Continua a tirare! Non finisce più! Mi sto stancando! Finalmente! Fiu! La metto nel mio drink! Tutto quel lavoro mi ha fatto venire sete! Un momento! Problemi? No! Tutto a posto! Ah, eccola! Ora posso godermi il mio drink! Ci sono quasi! Ecco che arriva! Si è perso! Miles! Potremmo avere un problema! Sto cercando di bere! Ok, non ci siamo! Questa situazione deve finire! Adesso ci penso io! E via! Ma dov'è? Cosa? Si è ristretta? È un mistero! Non so di che parli! Mi stai prendendo in giro! Non ho bisogno di una cannuccia! Spero sia valsa la pena aspettare! Allora? Sì! Ma sono ancora arrabbiato con te! Oh wow! Guarda qua! Hanno una bustina di patatine! Ora ci mettono dentro della roba! Pomodori, cipolle fresche, un po' di formaggio! Oh! È un uovo! Ora lo squattono per bene! Non ci credo! Ma cosa? Lo fanno bollire! È diventato un rotolo! Ora lo tagliano e poi lo intingono nelle salse! Ok, dobbiamo assolutamente provarlo! Sto morendo di fame! Oddio! C'è già una clutch pronta per noi! Aspetta, ma cos'è? Vediamo che c'è dentro! Oh! Una bella moneta! Scommetto che possiamo comprarci tutto quello di cui abbiamo... Ops! Ma no! Hai perso la moneta! Ok, va bene! Ora che facciamo? Aspetta! Mi è venuta una super idea! Aspettami qui! Io almeno non è arrabbiata! Aspetta, non ci credo! Un'altra! Ottimo! È il pacchetto di patatine che ci serviva! Ok, devo trovare dei soldi! Ehm, non qui! Che odorino! Belle salate croccanti! Scusate! Do un attimo un'occhiata qui! Oh, che buone! Che fame che ho! Ehm, scusate! Servono più a me che a voi! Oh no! Sta tornando! Nascondi le prove! Ehm, è stato faticoso ma ho trovato le patatine! Oddio! Davvero faticoso! Anzi! Ok! Ma ora siamo pronte, giusto? Certo che sì! Aggiungiamo gli ingredienti! Formaggio e cipolla! E i pomodori! Non li dimentichiamo! E ora rompo l'uovo nel pacchetto con cautela! Divertente! Ora chiudo la busta e gli do una bella agitata! E ora in pentola si cuoce! Oh no! Non è un fornello questo! E ora come facciamo a cuocerlo? Ehi! Possiamo scaldarla con le mani! Così! Ah! Scotta! Veloce! Dammi la pentola! Oh! Ottimo lavoro! Ok, basta! Ah! Ma mi vanno ancora a fuoco le mani! Oh! Oh! Ok! Ehm! Molto meglio! Guarda! Il nostro snack è pronto! Bellissimo! Tagliamo la fette! Per fortuna non ci serve il coltello! Aggiungiamo un po' di erbette! Che carino che è! Sei pronta per assaggiarlo? Secondo me è delizioso! Oh wow! Buonissimo! Che idea geniale! Oh! Come farò a finire tutto! Ok! Credo di aver capito! Stupida matita! Dai! Oh! Ma chi prendo in giro? Non so che cosa sto facendo! Almeno il caffè è forte, no? Ok! Dai! Concentrati! Oh! Credo di saperla questa! Ce la sto facendo! Dai! La risposta è la B! Sì! Altro caffè! Adesso va meglio! Mmm! Oh! Vedo tutto sfocato, accidenti! Oh! Non ho tempo di dormire, no! Tieni gli occhi aperti! Oh no! I compiti sono fradici! E' un disastro! Sono così goffo, accidenti! Ma cos'è successo qui? Oh, poverino! Vorrei poterti aiutare! Ma forse posso! Dammi quella tazza, su! Questo coperchio ci sta perfetto! Così eviterai ulteriori incidenti, vedi? Dov'ero? No! Ehi! Non si è versato niente! Lily! È davvero fortissimo! E si mantiene caldo! Wow! Se solo potesse risolvere anche questo problema! Ma non ho mai visto una cosa del genere prima d'ora! Che noia! Guarda questi snack! Uh, sembrano proprio buoni! Io mi servo! Il crimine perfetto! Assaggiamo le patatine! Mmm! Croccanti! Ah, troppo gentile! Queste patatine sono buonissime! Buone! Io prendo questi! Ehi, molla! Come mai sei così forte? No! Lascia queste patatine! Mmm! Posso premere il tasto? Per favore! Ah, certo! Se ti rende felice! Prendi questo! Oh, sono una specie di mago! Cosa? Cos'è questo? Sei un mago e tutto quello che riesci a darmi un pezzetto di caramella! Credo di sapere come sistemare! È l'ora della scienza, baby! Eh, è sicuro? Ah, certo! Perché no? Mi servono delle gocce di questo mix chimico! Io ancora è stabile! Wow, sei uno scienziato pazzo! Oh, come sei gentile! Riempio questa siringa con del liquido! Dovrebbe bastare! Stai indietro, potrebbe farsi interessante! Me ne serve solo una goccia! Wow, funziona! Sono un genio! Guarda, è enorme! Cosa? La vita non può essere così crudele! Mi piacerà! Sì, puoi essere invidioso! Non se ne parla! Mmm, è così dolce! Seriamente, devi assaggiarlo! Ecco, dammi qua! Voglio che la mia caramella sia enorme! Mmm, quanto devo usarne? Che importa, io guardo e basta! Ok, direi che ci siamo! Ricorda, non troppo! Ripensandoci, potrei fare le caramelle più grandi del mondo! Ehi, magnifico! Penso di essere innamorato! Sei mio! Wow, sarebbe magnifico! Oh sì, dammi questa caramella gigante! Jared, se fossi in te non lo farei! E invece sì! Niente può fermarmi! Guarda, ce l'ho fatta! Wow, guarda, Madison! Non sei l'unico genio qui! Oh, sei stato tu! Oh, non è mica giusto! Non vedo l'ora di provare! Aspetta, non è il sapore giusto! Aspetta, c'è qualcosa qui! No, non può essere! Non capisco! Com'è potuto succedere? La scienza mi ha deluso ancora una volta! Ora non mi sento bene! Jared, puoi condividere la caramella con me! Davvero? Dici sul serio? Spero ti piaccia! Ma forse lascia a me gli esperimenti! Wow, guarda qua! Proprio ciò di cui avevo bisogno! Miam miam! Wow, palloncini! Lo sapevo! Scoppiamoli! Forse dentro c'è qualcosa! Uh, ottima idea! Uh, finito! Mi sento così bene! Aspetta, sono soldi! Non ci credo! Wow! Ok, tocca a te! Ma quale dovrei scoppiare? Questo! Ho una bella sensazione! Eh! Sei tosto, eh? Prendi questo e questo! Sembra che tu stia faticando! Sono debole! Ma non mollerò! Potrei solo darti un fermaglio per capelli? Torno tra un minuto! Ci penso io! Dammi l'arancia! Bro! Ora glielo faccio vedere io chi è il capo! Con un'arancia! Fidati, fa esplodere i palloncini! Uh, grazie! È ora di scoppiare il palloncino! Spruzzo il succo d'arancia sul palloncino! Speriamo funzioni! Wow! Che stregoneria è questa? Jared, guarda! Uh! È un insetto! Devo guardare più da vicino! Sì, è un insetto! Ah, mammina! Salvami! È tutto ok, non può farmi male ora! Andiamo avanti! Chissà cosa sarà questa cosa! Cos'è? È un occhio! Che schifo! Aspetta! Non credo sia vero! È una caramella! Sei sicura? Sì, è decisamente una caramella! È delizioso! Wow! Hai fatto bingo! Ci sono! A noi due! È finita per te! Wow! Qui non c'è niente! Mi hanno fregato! La prossima volta avrò più fortuna! Non essere cattiva! Sono così arrabbiato! Oh, ho una cosina ed è adorabile! Wow! Un lecca-lecca! Vieni da me! Che stai facendo? Io ho il rosa, ricordi? Ecco fatto! Voglio parlare con il manager! Questo ti sarebbe piaciuto! Non sono mai stato così arrabbiato! C'è ancora un palloncino a sinistra! Ah, dove è andato? Sono così confusa! Jared, stai bene? Lasciami stare! Ehi, gemellino! Ma che... In realtà... Sto da Dio! Stiamo spaccando! Wow, è il mio turno! E va bene, vai! Wow, è pazzesco! Ho le patatine! Oh, andiamo! Cosa sta succedendo qui? Ho infastidito qualcuno! Madison riceve un sacco di chips e io solo questo! Non va bene! Qualcuno deve spiegarmelo! Wow, sono nel paradiso delle patatine! Le mie preferite! E le mangerò tutte! Uh, è tutto quello che hai! Devo farmi furbo! Sai che posso vederti, vero? Non puoi biasimarmi per averci provato! Facciamola finita! Quelle sono mini chip! Meglio di niente! Potremmo avere un problema! Aspetta, proviamo di nuovo! No, ancora non va bene! Potrei guardarlo tutto il giorno! Perché le cose brutte accadono alle persone buone! Calmati, ho qualcosa che potrebbe aiutare! Puoi usare le mie pinzette! Un regalo! Per me! Ecco qua! Oh, wow! Non so cosa dire! Funzionano perfettamente! Spero ne valga la pena! Mmm, è una delizia! Vedi, te l'avevo detto che avrebbe funzionato! Aspetta, voglio provare qualcosa! Cosa sta facendo, Madison? Sto facendo piovere patatine! Uh, di più! Ne voglio di più! Fate largo! Oh, sono fuori di testa! Che importa! Mi divertirò ancora! Giù nello stomaco! Penso che potrei avere un problema! Ah, hai detto qualcosa! Non potrei mai annoiarmi di questo! Questo è difficile da guardare! Preferisco un'esperienza culinaria confortevole! Mmm, i miei complimenti allo chef! Aspetta, questo non è una patatina! Oh, wow! È un mini joystick! Non lo faccio più! Davvero? Devo stare attento! È così piccolo che non voglio romperlo! Scopriamo cosa fa! Wow! Andrà bene! Bip-bip! Cosa sta succedendo? Avrei dovuto saperlo! Sei tu! Sì, sono io! La tua Nemesis! Basta! Non credo che lo farò! Bip! No, non farlo! È l'ora dello show! No! Perché, Jared? Perché? Eh, mangi in modo così disordinato! Dammi qua! Mi rovini sempre il divertimento! Uh, una patatina! Sto bene oggi! Vuoi vedere un trucco magico? Ti lascerò a bocca aperta! Guarda, è incredibile! Oh sì, ottimo lavoro! E ora puoi lasciarmi sola? Non ti piace, eh? Wow, che bel cappellino! Guarda cosa c'è dentro! Che cosa mistica! Devo smetterla! Ma ha lo spettacolo di magia! Il cibo è più interessante! Gnam! Delizioso! Non vedo l'ora di provarlo! Anche io! Sembra meraviglioso! Ah, smettila, Jared! Ma mi dà un'idea! Devi vedere questo! Me lo mangio tutto! Sarà un record mondiale o qualcosa del genere! Questo è l'ultimo pezzo! Tada! Cosa ne pensi? Penso di sentirmi male! Oh, dici delle cose carinissime! Almeno sei felice! Ho bisogno di nuovi amici! Oh, ho fatto del mio meglio! Ho cose più importanti da fare! Devo chiamare Kevin! Aspetta! Questo è un brufolo! No, è un disastro! Non posso permettergli di vedermi così! Perché doveva succedere a me? Aspetta, forse posso risolvere questo problema! Vale la pena provarci! Metterò la gomma in questa ciotola! Poi aggiungerò un po' di soda! Ci siamo! Ora mescolo! Ehm... Madison? Tarari! Tarara! Questa è la risposta a tutti i miei problemi di brufoli! Dopodiché avrò bisogno del mio frullatore! Ci verserò dentro il composto! E ora è il momento del mio ingrediente speciale! Questo lo trasformerò da un liquido o in un gel! Ci metto sopra il coperchio così non faccio danno! Guarda! Wow, interessante! È pronto! Ora lo verso in questo stampo speciale! Voglio prendere tutto il liquido! Aspetterò che si fissi! Non dovrebbe volerci molto! Non ho idea di cosa stia succedendo! Credo sia abbastanza lungo! Lo staccherò con cura! La mia maschera a viso personale! È così rilassante! Sapevo che sarebbe successo! Vediamo se ha funzionato! Ho il viso luminoso! Il brufolo è sparito! Beh, questo perseguiterà i miei sogni! Come sto? Sei bellissima! Lo pensi davvero? Sì! E quindi cosa fai dopo? Mica è così difficile! Forse se mangio ci capirò qualcosa in più! Il cioccolato è proprio ciò che ci vuole! Ed è la giusta quantità, direi! Mamma, è solo un po' di zucchero! Non finché non avrai finito i compiti! Lizzie, devi concentrarti! Intendi su questa ciotola di dolcetti? Sul serio? Ma tutte le mamme sono così severe! Mi serve solo un po' più di furbizia! Vedi questa grande spazzola? Beh, dentro è vuota! Quindi basta versarci dentro i dolcetti! Ma cosa stai combinando? Ahm! Spero non siano dei dolci! Presto tutti dentro! E fa finta di studiare! Qui non c'è niente! Questi sono i tuoi compiti! Dolci? Non impari mai, vero? Ma sono più intelligente di quello che pensi! Nascondiglio segreto in arrivo! Venite da mamma! Ma come sono buoni! Se la mamma non lo sa, male non le farà! Vediamo stavolta cosa ci è capitato! Uh, mini caramelle all'anguria! Mi piaceranno sicuro! Ma questo a che serve? Devo mangiarlo! Ehi! È per la bocca! Davvero? Ah, sì! Vabbè! È una challenge! Sorridi! Mi sembra di stare dal dentista! Ma stai da dio! Ah, molto divertente! E ora caramelle! Con la bocca così mica è facile! Che ridere! Mi stai facendo sentire male! Tocca a me! Uh, gelato all'anguria! Mmm, è cremoso! Fa sempre più freddo o sbaglio? Non riesco a muovermi! Devo fare qualcosa! Pensa! Trovato! Per fortuna mi porto sempre un phone in borsa per questo tipo di emergenze! Ora ti capro! Funziona? Mi sa che si sta sciogliendo! Ma chi prende in giro ci sta mettendo un secolo! Mi mancherà i mini cubetto di ghiaccio! Mi sto sciogliendo! Mi scioglio! Ha funzionato! Ce l'ho fatta! Sono così felice! Buonissimo questo gelato! Emma? Ehm, ma quelli non sono noodles! Ti stai per mangiare i capelli! Ma come diavolo è potuto succedere? Ma che schifo! E i miei capelli sono tutti appiccicosi! Avere i capelli lunghi è una vera rogna! Dovrei tagliarli e basta! Mi dispiace ma fa un po' ridere! Forse per te! In realtà! La soluzione è sempre stata portata di mano! Pensi che sia divertente, eh? Guarda questo veloce cambio d'abito! Niente più capelli in mezzo, vedi? Ma li vuoi ancora mangiare? Aspetta! Ho un'idea! Adesso entrambe siamo liberi dai capelli! Fantastica! Adoro questa canzone! Ballerò tutta la notte! Non sono pronta per la scuola! Non sta guardando! Posso intrufolarmi? Che sonno! Meno male che ho questo caffè! Non funziona! Come stai? È ora di svegliarsi! C'è troppo da fare su non puoi dormire! Ma dove corri? Su! Fa un diagramma di quelle molecole! Forza! Che sta facendo? Sta risolvendo delle equazioni? Continua e non fermarti! Adesso sta spolverando? Sì, così fa vedere al laboratorio chi comanda! Oh, l'effetto del caffè è svanito! Adesso potrei fare un pisolino! Passerò un pomeriggio senza telefono e so esattamente cosa fare! Mi sta chiamando Kevin? Quale scelgo? Beh, Kevin immagino! Ehi, come va? Aspetta un attimo, ok? Oh, la mia caramella preferita! Ma che fortuna! Limone e fragola l'adoro! Oh, quello era mio! Ora non lo voglio più! Beh, ora mi dispiace! Vedi questa palla di plastica? Aprila e mettici le tue caramelle preferite! Ora metti un goccio di colla a caldo! E attaccaci un bastoncino di legno! Poi incartala con la carta che preferisci! Ehi, Lizzie! Vorresti il tuo lecca-lecca? Che ne dici di due giganti? Sembrano maracas, non è vero? Ora sì che hai un motivo per ballare! Ed è tutto tuo! Ora non puoi mica essere arrabbiata! È il lecca-lecca più grande che abbia mai visto! Aprilo! Icon non è così bello! Scherzi! È il film più bello del mondo! Del mondo addirittura! Ma dai! Liam, non immaginavo ti sentissi così! Ho voluto farlo per un sacco di tempo! È il destino, eravamo destinati! Ups! Era il mio stomaco! Devo mangiare qualcosa! Aspetta! Credo di avere una barretta con me! Oh sì! La mangio dopo! Scusa, anche se ho un'idea migliore! Ho bisogno di uno spuntino! Capito! A chi non piacciono le patatine! In arrivo! Aia! Cos'era? Non ne ho idea! Sul serio! Devo lavorare sul mio obiettivo! Questa è un'idea migliore! Molto meglio dell'aeroplanino! Pronti per il decollo! Guarda come va! Grandioso! Mi servono più lezioni di volo, credo! Pensa, pensa! Deve pur esserci un modo! Wow! Ottima idea! La userò! Devo solo attaccarci le barrette! Sono un genio! Ottima idea! Ok! Arriva veloce! Brum, brum! Oh, wow! Guarda quanti dolci! Questa è perfetta! Sara, questa è per te! Wow! Grazie! Ciao, ciao! Sara! Ma che fai? Non ci credo! Il mare è pieno di pesci! Mettilo qui! Esatto, così! Niente! Anche peggio se possibile! Ehi! Facciamo una pausa snack! Ci sediamo qui! Un po' di zucchero per tirarci su! Ci sto! Da quando è che non ti lavi le mani? Sono l'erce! Che ci hai fatto? Un dollaro! Che fortuna! Che bravo cucciolone! Oh! Sono nuovissime! Ora pulite! Che schifo! Sara! No! Oh, scusa! Ne vuoi un pezzo? È un po' squagliato! Ah! Non può succedere! Scusa, puoi smetterla! Un attimo! So cosa fare! Se metto la bottiglia qui e ci faccio rotolare sopra la barretta i pezzi si rompono senza nemmeno toccarli! Va fatto su entrambi i lati! Vediamo se è funzionato! Apriamola un po'! Ta-da! Pezzi perfetti! Non toccarli, eh! Uno a te e uno a me! Strano! Ma ok! È buonissima! Buon appetito! Buon appetito!